Noi cerchiamo oggi di fare una panoramica del sistema di leggi che regola il mondo dell'audiovisivo, soprattutto dal punto di vista dei contenuti. Quindi parliamo del sistema del copyright degli audiovisivi, in particolare per quello che ci interessa per il factual, insomma quello che è il target del corso, anche da quello che sento di quello che avete detto di vostro background professionale, quello è il focus. Quindi senza andare su cose troppo tecnicismi, perché non credo che vi interessino, cerchiamo di fare un po' una carrellata dei principi normativi, anche delle prassi, cioè di quello che poi nella pratica contrattuale si fa in Italia e diciamo in Europa in qualche modo, perché poi le leggi ormai fra Italia e Unione Europea sono abbastanza uniformate e quindi quello e diciamo su molte cose, soprattutto sul sistema dei diritti, non tanto così su quello dell'eccezione di cui poi parleremo e che vi interessano, è abbastanza uniformato. Come focus, cioè le aree che io volevo toccare di più sono la contrattualistica di produzione, insomma concordate con l'organizzazione del corso, l'accesso ai materiali di archivio e il loro utilizzo, che è pane quotidiano di ogni buon documentarista e poi il sistema delle eccezioni, limitazioni e diciamo fair use e tutto quello che ci ruota intorno, che è una cosa da sapere un pochino maneggiare per chi fa documentario, sia di cronaca che di archivio, perché quest'ultimo è proprio il sistema di tutte le regole che consentono liberamente, a volte, non tante volte, però un po' di volte, di non dover chiedere permessi e pagare per usare i materiali. Quindi va conosciuto per chi fa il documentario, perché appunto al contrario che nel cinema di finzione non ci si può permettere, cioè non si ha la possibilità di concordare con tutti un consenso e pagare chiunque, a volte non si può, a volte non si ha i mezzi, a volte l'altro non è disponibile, quindi è proprio un altro contesto e questo è un qualcosa che rende questo tipo di produzione più complesso. Un po', beh, tanto per, io seguo o non seguo questa scaletta delle slide, quindi insomma voi ovviamente poi la seguite, ma ci discostiamo, anzi pure dove poi magari voi volete, magari non continuamente, ma ditemi dove vi interessa fare domande o fermarsi di più. Un po' di nozioni le doppie scontate, forse, perché diciamo che da quello che ho sentito c'è anche stato già chi prima di me negli altri incontri, credo dal punto di vista contenutistico e del senso artistico, ve l'ha potuto spiegare meglio di me, cioè documentario, factual, factual entertainment, insomma tutti gli ambiti che conoscete. A me quello semplice che interessa di notare, di farvi notare da avvocato è che parlare di una cosa significa poter dire quale disciplina si applica, no? Quindi già su questo oggi inizia a essere tutto un po' più fluido, cioè c'è talmente tanta contaminazione fra contenuti e piattaforme che mentre una volta c'era il cinema di finzione e il documentario, ormai c'è questa specie di macro genere factual che poi è diventato factual entertainment, per cui tutto quello che era questo tipo di distinzioni fra il film cinematografico tradizionale e tutto il resto sta saltando completamente. Questo a livello di disciplina a volte è un pochino complica, molte più volte, insomma altre volte semplifica e lo vediamo fra un po', andando un pochino avanti nelle regole. Un po' di definizioni ve le do, spero non appena diventa un po' noioso, magari segnalatevelo, però insomma quello è il modo di procedere di uno che fa l'avvocato e vi vuole un po' spiegare le leggi. Il primo presupposto per fare qualunque discorso credo che sia capire la legge italiana, che è quella che si applica a tutto il lavoro che voi fate in questo settore, da dove parte? Allora, noi in pratica oggi parliamo di due grossi settori di leggi, diciamo così, uno sono leggi generali che riguardano tutte le opere intellettuali, il sistema dei copyright, in realtà del diritto d'autore dovremmo dire in Italia, ma insomma tutto il sistema dei copyright, che tutela da chi fa lo scultore a chi scrive i libri, a chi scrive i giornali, a chi poi fa anche i film, eccetera, eccetera, scenografie, tutto quello che vi viene in mente e che rappresenta un'opera dell'intelletto umano che abbia una minima creatività, per legge è tutelato. Questo è tutto un sistema di regole che vedremo. L'altro sistema di regole invece riguarda solamente l'ambito dell'audiovisivo, cioè del cinematografico e audiovisivo, sono tutte le leggi di settore, le toccheremo un pochino, io mi addentrerò poco per motivi di tempo in tutte quelle molto di settore che sono tutte quelle che riguardano l'impianto produttivo economico, cioè qualche cosa ve la dico, però lì servirebbe proprio un corso a sé, perché tutto il sistema dei finanziamenti, benefici fiscali, ricoproduzione, tutta roba che è troppa, però mi fa piacere farvi capire un po' come è organizzato il tutto. Quindi regole generali dall'altro e dall'altro tutte queste norme più sul prodotto cinema in quanto prodotto di un'impresa. quello di cui parliamo di fatto, vi davo qui questa definizione, nel 2004 è stata fatta una riforma in Italia e da allora come film, il film viene definito, questo va pure in stand by, come spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi natura, anche digitale, con contenuto narrativo documentaristico, purché opera dell'ingegno ai sensi della disciplina e del diritto d'autore, destinato al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare dei diritti di utilizzazione. Dentro questa definizione c'è un sacco di roba, e anche un sacco di roba innovativa rispetto a quella che era la regolamentazione prima. Allora, lo spettacolo ve lo risparmio, non si capisce perché ne parliamo. Allora, primo, ormai anche il digitale, un tempo c'era la pellicola, c'è stata una fase in cui bisognava spiegare con interpretazioni, anche se era su digitale, non era un'opera di serie B, ma era comunque un film, ormai è codificato, nessun dubbio. Qualunque tipo di supporto, e vi aggiungo, digitale vuol dire non solamente materiale, ma in teoria anche se faccio una cosa si perde il materiale, ma c'è comunque una traccia digitale, anche temporanea, quello basta a fissare il film, esiste. Narrativo documentaristico, altra cosa importantissima perché equipara in tutto e per tutto la dignità e la tutela del documentario al film cinematografico narrativo, insomma di finzione. Oggi, insomma, in questi giorni c'è stato un evento per chi fa il documentario epocale, cioè che un documentario ha vinto il Festival del Cinema di Venezia, cioè una roba proprio che nessuno ne sarebbe mai aspettato, ma neanche che andava in gara, figurati che vinceva. Quello è stato un po' proprio un suggello che è stato messo, che parte un po' da qui, ma anche un po' c'è la legge, un po' c'è la cultura, come la gente la recepisce che cambia il contesto. Questo ormai è un principio chiaro ed è importantissimo. Vuol dire che si aprono tutte le stesse regole del prodotto cinematografico tradizionale. Poi dice la legge, purché opera dell'ingegno, è quello che vi dicevo prima, cioè qui si fondono le due parti, cioè questa norma ti dice, io applico la disciplina che applico tutto il comparto cinematografico, quindi tutta quella caterva di regole come puoi chiedere i fondi, farti aiutare, le cineteche nazionali, qualunque cosa, se tu hai fatto una roba, non mi importa se è documentaristica, non mi importa dove l'hai fissata, pellicola digitale, ma che comunque sia un'opera dell'ingegno e quindi che abbia una sua creatività, che fra un attimo vi dico meglio che vuol dire. Anche qui un po' di concetti, poi mi interrompete se non è chiaro o c'è qualche curiosità, opera cinematografica audiovisiva e sequenze di immagini, una contiene l'altra, cioè sono delle sottospecificazioni, io ho sequenze di immagini in movimento, devo averle per avere qualunque cosa, per vedere se sto vedendo che ho un film davanti. Dopodiché questo film può essere una parte cinematografica, perché è destinato al pubblico prioritariamente nella sala, cioè per legge vuol dire che tu devi uscire in sala come prima mostra, come prima pubblicazione al pubblico, oppure può essere un audiovisivo, in pratica non viene qualificato come film da sala, perché tu lo fai, metti la tua serie web su internet, con il tuo documentario su internet, quelli sono audiovisivi, sono ugualmente opere degne di tutela, però non sono destinate al pubblico prioritariamente. Questa cosa è tutt'oggi un po' una iattura per chi fa il documentario, perché appunto qui si vede come la legge è andata molto avanti, ha capito il digitale, ha capito il documentario, ha capito tante cose, però rimane un impianto basato, cioè che è nato e quindi rimane ancora un po' basato, spostato sulla sala, perché? Perché dietro la sala c'è tutta una filiera di mercato che vuol dire non solo la produzione, quando io poi dirò fuori l'opera, ma vuol dire la distribuzione, vuol dire l'esercizio, vuol dire tutto quello che ci ruota intorno, si ha i sindacati, eccetera, eccetera, che si ha ancora paura, il legislatore ancora non ritiene maduri i tempi per scardinarlo, perché nel momento in cui dice che tu dai tutto lo stesso riconoscimento anche a chi non esce per prima in sala, fai saltare come è il mercato oggi. Di fatto già sta venendo molto sballottato, perché insomma basta guardarsi intorno, però questa cosa è una cosa da notare. Le definizioni forse straniere ve le risparmio, però per farvi notare che questo presupposto di questa sequenza di immagini è il presupposto primo, tanto per fare un esempio se io metto una telecamera fissa anche di sicurezza, io ho una sequenza di immagini, però non vuol dire che c'è un film e neanche un audiovisivo perché non c'è nessun intelletto creativo dentro. Dopodiché se invece prendo tanti filmati anche di immagini di sicurezza e sono così bravi che li monto e gli do una narrativa, io ho fatto un'opera. Ho fatto un'opera e questa opera è comunque un audiovisivo, quindi è tutelato come opera d'autore, se non lo faccio uscire per prima cosa in sala, ad oggi come è la legge non ha tutte quelle tutele normative che a parecchio servono. Fin qui è chiaro? Dunque, che vuol dire, visto meglio, qual è questa parte creativa che sta in un'opera? Allora, secondo la legge, gli autori dell'opera cinematografica, e questa è una norma che è stata creata 60 anni fa, 70 anni fa, sono queste quattro categorie, l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica e il direttore artistico, cioè il regista. Trasportiamo al documentario, no? Faccio la domanda a voi. Secondo voi la sceneggiatura in un documentario esiste? Un documentario originale, cioè fatto tutto dal vero, esiste? Sì? Ma poi esiste e non esiste. C'è fatto bene esiste. C'è fatto bene. Ma per esempio, allora io quando faccio un film e produco, ho prima il soggetto, faccio un scatitone, faccio un trattamento, poi c'è uno che mi schiava la sceneggiatura e poi mi metto a girare. Quindi c'ho prima uno, poi l'altro. Nel documentario questo come faccio ad averlo? Cioè dovrei avere la palla di vetro, no? Quindi la sceneggiatura ce l'ho astrattamente come concetto, però fin quando non lo finisco non ce l'ho. Cioè in realtà io la sceneggiatura ce l'ho come se fossi uno shoot script e quando ho finito di girarlo, lo chiudo e poi posso fare lo script e dire esattamente com'è il documentario. Prima posso fare una scaletta il più possibile precisa, però se è documentario per definizione non dovrei averci una sceneggiatura. Quindi in tante piccole cose, a lungo tutto il discorso diciamo in tante piccole cose bisogna sempre adattare se si fa documentario o norme che un sono scritto e pensando al prodotto della sala di finzione. Concetti, soggetto e sceneggiatura credo che ce l'avete insomma a livello contenutistico, narrativo insomma, no? Come ci si evolve l'un all'altro. Avrete sentito parlare anche di trattamento che di fatto è un'ipotesi intermedia. A livello di legge sono tutti tutelati, tutti. Cioè anche se io scrivo una paginetta, se quella paginetta veramente c'è dentro una narrativa, quella paginetta è tutelabile. Ovviamente più c'è la narrativa e più la posso tutelare, perché quello che in realtà tutela la legge e questo è un altro concetto proprio importante da fissarsi in mente per chi produce, ma anche per chi fa l'autore, per tutelarsi sul lavoro che fai. La legge sul diritto d'autore, sui copyright, non tutela le idee in nessun modo. Quindi se io ho un'idea, anche la migliore del mondo, la scrivo, me la rubano, se la vanno a fare, io non potrò mai fare nulla. Gli metto il sale sulla cosa, come si dice. Quello che tutela la legge è solamente il modo in cui io quell'idea la racconto, cioè la forma narrativa. Quella sì. Che succede che la forma narrativa, a seconda del tipo dei prodotti, è più o meno decisiva. Cioè in un film pesa tantissimo, perché io comunque la sceneggiatura, volendo a livello proprio completamente scarno, la riducono, ci stanno due, lui ama lei, lei non ama lui, lui soffre un po', poi c'è un colpo di scena e poi è tutto basato, come io poi l'articolo, in scena, in dialoghi, eccetera, eccetera, eccetera. In un documentario questo vale, però appunto nasce tutto un po' dopo, dopo che ho tutto il materiale e che alla fine vado molto avanti. Quindi come dire, un documentario è in una fase di scrittura, volendo a volte un po' più debole come tutela, è più difficile tutelare di un film, perché molte volte è legato all'idea di avere accesso a una certa realtà e raccontarla. Quindi se questa cosa la scrivi in una sinossi, di una vaginetta a mezzo, uno se la legge e fa la stessa cosa, purtroppo non sei messo molto bene. Lì subentra un po' di mestiere e appunto non solo regole, ma uno deve avere le prassi, cioè se uno è bravo, il documentarista è bravo, magari che fa? Si fa firmare una lettera d'accesso esclusivo da chi ti deve dare un'intervista, devi far entrare da una parte, per cui tu due mesi sei sicuro, lì dentro non ci mette piede nessuno. Cerchi con vari stratagemmi di tutelarti in modi che con un film non sarebbe un problema da fare. La musica che può essere, l'autore della musica di cui parliamo, che può diventare addirittura autore del film, cioè dell'opera, è solamente la musica originale scritta per il film. Cioè in quel caso lì, chi fa quello diventa un coautore, alla pari di scrivere il soggetto, la sceneggiatura e del regista. Se invece è semplicemente uno che ha scritto la musica, la presta, cioè dà una licenza perché ce la mettono dentro, non diventa autore del film, rimane autore della sua musica, magari io lo citerò nei titoli perché ci accordiamo così, però non acquista nessuna voce in capitolo sul film. E infatti questo vi volevo un po' segnalare. Quindi abbiamo la colonna effetti, musica, dialoghi, eccetera, eccetera. Quella di cui parliamo è la colonna musicale originale ai fini del diventare autore. Altra cosa che mi ero segnato da dirvi, penso che sia nella hit, i primi dieci errori che a volte, insomma alcuni ho visto fare. Cioè che si prendono la musica, la sincronizzi, dopodiché siccome paghi perché magari organizzi una proiezione, cioè paghi la si ha e la dichiari a bordo e rocci paghi quello che ci devi pagare, pensi di essere legittimato a usarlo. Non so se questo vi è mai capitato di organizzare una proiezione, mi hanno visto un sacco di volte, magari anche ai festival, c'è gente che in totale buona fede ha messo una musica dentro un film, ha pagato la si ha e dopodiché si è vista arrivare la letta dell'avvocato dell'editore o del gruppo di turno. Perché in realtà uno non vuol dire l'altro. Cioè quello, il sistema poi dei diritti musicali è abbastanza articolato. Io ho provato a farvi una scaletta di quelli che sono i punti essenziali. La musica di fatto viene prima scritta, poi viene eseguita dal punto di vista musicale, cioè sia sonoro che cantato. Viene a quel punto incisa, però concettualmente quando io la incido ci sono due diritti che nascono. Uno è il diritto di chi, sol perché stampa un master, cioè realizza l'attività di incisione e titolare di quell'incisione. L'altro è quello che prende e acquista dagli autori e da chi ci ha cantato e suonato dentro, il potere di editarla, cioè di pubblicarla, renderla pubblica. Cioè l'editore musicale. Di solito l'editore è titolare dei diritti fondomeccanici sui master, su delle società comunque collegate in rapporti. Io per riuscire a prendere legittimamente una musica e metterla dentro e non avere problemi, devo essere sicuro che ho cucito tutti questi quattro passaggi, quindi che sono appunto una catena. Di fatto mi basta avere l'editore e il produttore, i quali si hanno fatto bene il loro lavoro, si saranno fatti dare loro i permessi, me lo dichiarano nel contratto. Io faccio una licenza di sincronizzazione con l'editore, che è quello che mi può autorizzare a sincronizzare la traccia di dentro. Dopo che se la traccia me la prendo da un master che è di qualcuno, quel qualcuno che è il produttore del master mi farà un'altra licenza, di solito mi fa ripagare, purtroppo, e mi dice per usare il mio master mi corrispondi tutto. A quel punto la musica l'ho inserita legittimamente. A sinistra di questo schema è il caso che ho già detto invece, quello che è completamente diverso, quindi la musica non è preesistente in questo caso, ma io prendo proprio un autore musicale e gli commissiono di scrivermi la colonna per un'opera. In questo caso, se questa è la forma in cui avviene, lui diventa un coautore del documentario, dell'opera in generale. Domande? Sì, io. Prego. Io posso vedere come funziona per la musica diagetica, penso che anche su quello ci sono un po' di... mi dico una cosa contrastante. Ti confesso, non so diagetica che cosa vuol dire, me l'hanno già parlato, forse me l'hanno pure chiesto un'altra volta, mi scordo sempre cosa significa. Vabbè, in questa scena c'è una radio a cui esce una musica. Ah, ecco, giusto. La musica è la cattura incidentale, quella che chiamano gli americani l'incidental capture. Dunque, quello lì è un caso controverso. Che succede? In quel caso lì, allora, premesso questo, la musica che esce dalla radio è di qualcuno che l'ha suonata, di qualcuno che l'ha scritta, di qualcuno che l'ha suonata, che l'ha data un editore, è stata incisa, a quel punto è stata data una radio che la trasmette. Detto questo, di per sé, se uno potesse registrarsela tutta e utilizzarsela a fine economici, ovviamente è palese che è illegittimo, non potrebbe farlo. Il motivo per cui tu fai la domanda e implicitamente credo che in buona fede si possa usare, qual è? Che di solito può avvenire o perché proprio neanche te ne accorgi, magari fai una registrazione e c'è la musica di sottofondo o perché è una cosa che è comunque di entità talmente lieve che può sembrare rilevante. Allora, tutto questo agli occhi degli editori e della CIA è no, nel senso loro, la loro desi che quella è una violazione dei diritti. Quello che ti posso dire che succede nella pratica, questa è una di quelle, come dire, un po' sfumature che cambiano parecchio da paese a paese, da chi c'è di là, però insomma, per esempio negli Stati Uniti la cattura incidentale ha avuto della giurisprudenza favorevole, per cui è stata, siccome loro lì, e anche questa è una cosa a cui volevo arrivare dopo parlandone un po' di più, hanno questo concetto di fair use molto ampio, cioè la legge è scritta in un modo molto elastico, ci può entrare più roba se la interpretano le corti, la cattura incidentale è considerata un uso fair, cioè nel senso se è fatta con tutta una serie di criteri, per dirti, è veramente o involontario o comunque inevitabile di ammontare il rilevante che non rega danno e non fa concorrenza al titolare dei diritti, cioè se c'è tutte queste cose, insomma c'hai di sottofondo che se no si riconosce, ad oggi dopo queste sentenze vai abbastanza sereno. In Italia no, nel senso che fino a qualche, allora in Italia la situazione è questa, in Italia la legge è più stretta, di fatto stiamo anticipando e ben venga tutta una serie di cose che vorrei detto dopo più in generale, ma le vediamo su questo caso, la legge ha una formulazione molto più stretta, quindi non c'hai l'appiglio per dire che rientra in questo diritto di fairness di qualche tipo. L'unica cosa che puoi andare a dire è questa, che allora, primo se stai in un contesto di cronaca, vedete molto la situazione, se stai in un contesto puramente cronachistico, quindi poi quello che tu registri va per esempio in onda, in un contesto, in una slot televisiva, per esempio informativa, eccetera, eccetera, hai un profilo di rischio molto più basso, perché è temporaneo, se tu la prendi già e la metti in un'opera che ha un uso ripetitivo, anche in televisione le chiamano le opere di utilità ripetuta, cioè un documentario che lo chiudi, lo confezioni, lo metti sul mercato, in teoria te lo possono andare neanche cento volte, lì già è ovviamente tutto un altro mondo. Non ti dico ovviamente che, ahimè, dipende pure chi sei te, perché se è inutile dire che una cosa è un canale che assiae, che spesso innesca queste cose, per andare nel concreto, gli paga milioni all'anno di diritti forfettizzati, una cosa è uno che è un utilizzatore saltuario, non ne parliamo ancora se ci va in sala, cioè nel senso perché lì viene visto proprio come uno sfruttamento tipicamente commerciale, allora se la roba è veramente, talmente di sottofondo, talmente rilevante, il tuo scudo un pochino, se vogliono venire a fare i super cattivi, è che il danno, andarlo a quantificare in Italia, siccome non siamo in America, che erano i risarcimento di fantalioni appena vio di copyright, sarebbe comunque un po' risicadino, quindi comunque è una classica cosa che poi vai a trattare e dovresti riuscire a tamponarla, però come legge, da come è scritta, non ce l'hai la norma per attaccartici in modo chiaro, se fai prodotto da spettacolo e non puramente informativo, diegetica, giusto? Stavolta spero me la ricordo perché faccio queste figure di vengono, allora, prego, volevo sapere, il caso mio è che il mio documentario adesso andrà a breve una rassegna e mi hanno chiesto in questo caso, che non succede probabilmente mai, e se appunto volevo un compenso a riguardo, una volta pattuito il compenso, e praticamente mi hanno mandato una liberatoria, che questa era veramente la prima volta in assoluto che mi succedeva, dicendo che devi firmare questa liberatoria per la CIA e così la rigiriamo alla CIA, visto che in altri casi era stato sempre informale la cosa, e visto che comunque io, il mio lavoro era del tutto autoprodotto, indipendente, e non mi ero mai fatto problemi del genere con CIA, cioè, ovvero, io in realtà avevo usato musiche che però erano gli autori tunisini, perché era un lavoro sulla rivoluzione in Tunisia, che quindi si rifanno alla SACEM, che sarebbe quella francese, la CIA francese, e non vorrei che magari adesso, essendoci un compenso, essendoci la liberatoria, si possano rifare in qualche modo, perché magari il resto delle volte non c'è mai stato, cioè, o era completamente d'uso non commerciale, o comunque non c'era nessun fine di luogo. Addirittura su questo tipo di utilizzo vada un ritroso a vedere tutti i due passati, non penso, anche se però non si può mai mettere la mano sul fuoco, tanto più che mi fanno un racconto così stringato, perché poi queste qui dipendono un po' anche dalle CIA locali, dalle direzioni locali, cambia il mondo, ci sono certe che in certe fasi sono state scatenate, altre magari un po' più ragionevoli, no? Comunque nell'applicare le regole uno deve essere sempre, insomma, usare il buon senso, loro hanno questo ruolo, spesso in viso, che è a metà fra l'esattore e il pubblico ufficiale, quindi insomma, a volte sono andati giù un po' troppo pesanti. Io direi che la richiesta che ti hanno fatto è assolutamente normale e legittima, cioè il modo di lavorare, chi manda un'opera a una proiezione in pubblico, anche per un festival, deve ottenere una liberatoria, cioè un permesso scritto di chi è il titolare. In questo caso hai riunito sotto di te tutti i ruoli, perché c'è il cappello, se ho capito, dell'autore, del produttore, è autoprodotta, però non vuol dire che concettualmente non c'è tutta questa catena di diritti, solo che hai fatto quasi tutto tu. Tanto meglio, è facile, convogli tutto. Per le musiche, quello che loro credo hanno scritto, cioè quello che normalmente si scrive una liberatoria, che è normalissimo, è che chi ti dà l'opera per proiettarla ti dichiara e ti garantisce che ha acquisito tutti i diritti da tutti i titolari di qualunque aspetto ci sta lì dentro. Però pro forma, perché per esempio io non li ho acquisiti, io ho avvisato le persone di cui usavo le musiche. E questo è il passaggio dal stretta di mano alla fase formale di quella di cui parliamo oggi. Perché in altri casi era la prima volta che mi si nominava la SIAE, perché in vari festival che ho partecipato tu compilavi il form e quindi comunque era un festival, già una volta che presentavi il lavoro era così. Questo invece, essendo una rassegna, sono loro che hanno cercato me, e poi invece di compilare il form o le cose mi hanno chiesto questa liberatoria, che però hanno specificato, rigireremo alla SIAE, che è la prima volta insomma la sentivo nominare. Però spero sia un performance. Io non mi preoccuperei prima del dovuto, cioè se tu ci hai messo lì dentro delle musiche che hanno dei titolari che sono edite e che sono del repertorio SIAE, rischi di avere un SACEM, però penso... Se non lo sono... Eh, SACEM però si asce agli accordi con le altre. Assolutamente. Occhio. Cioè, nel senso... Eh, lo so, lo so. Lo so, però anche loro non mi hanno aiuto. Io ai tempi mi ero rivolto a loro, cioè aiuti alla SIAE, alla SACEM, non hanno risposta a molte mail, non mi hanno chiarito molte dubbi che avevo, quindi non è neanche se non stai d'aiuto nel lavoro loro. Però ecco, in astratto, se sono di un repertorio che è nella tutela di una corrispondente della SIAE, ci metteranno un po' di tempo, però occhio perché potrebbero... Come potrei tutelarmi? Nessun modo. E ritrovare l'editore e farti dare il permesso di utilizzazione di queste musiche. Io ho scritto anche a loro. Ho scritto una, ero una ragazza che conoscevo, che però comunque è diventata famosa da... in quei tempi proprio. E lei è stata, cioè, è stata molto tranquilla, però sempre a livello del tutto informale. Mi ha detto che mi avrebbe fatto scrivere dal suo agente Sabellino, poi non mi ha più scritto. E gli altri, io glielo ho comunicato, però non mi ha risposto né loro, né chi per loro. Questo è uno dei problemi ricorrenti. Però non può essere una risposta che uno non ti risponde. Purtroppo ti dico la... No, perché io penso che finché non ha nessun tipo di fine di lucro ovviamente rischi poco e niente, però dato che questa volta... Hai una quantificazione di danno più bassa, però attenzione perché usare un'opera, cioè questa è proprio una cosa seria, cioè prendere una musica e metterla in un'opera che tu pubblichi senza il permesso scritto di chi è il titolare, c'è la renuncia penale rischi, cioè non è una cosa così. È proprio una violazione, è come se che craccassi un cd e ti metti a venderlo. Non ti voglio terrorizzare, però non lo sottovalutare, insomma. Se non altro, manda mail a chiunque puoi, almeno per poter un domani, se c'è veramente qualche spietato di turno che vuoi fare, almeno per dire che sei in totale buona fede, che hai fatto tutto l'impossibile, manda mail, conservatele. Ma quelle tempi già le ho mandate, ne mandai... Magari dopo, insomma, parliamo altri due minuti di questa cosa, adesso magari proseguiamo. Allora, quindi riprendendo il filo al discorso, opera, film, audiovisio, chi sono gli autori, quelle quattro categorie. Questo in realtà in parte ve l'ho accennato, cioè il tipo di produzione di cui parliamo, gli autori sono sempre quelli. Ci hanno varie particolarità, appunto, vedi, spesso corrispondono tutti gli stessi cappelli, il che a volte confonde un po' le cose, cioè è facilissimo, è uno che sia autore e se lo autoproduce, eccetera, eccetera, quindi devi stare indietro un po' a entrambi gli aspetti. La sceneggiatura che in realtà nasce dopo, mi pare già ve l'ho fatto notare. Ci sono dei fattori di semplificazione, però secondo me ci sono un bel po' di fattori di complessità che se ne possa sembrare, possa sembrare, cioè in realtà da un punto di vista costa di meno, è un impianto produttivo più snello molte volte, però fare documentari è piuttosto su tante cose che fare un film di cinema dove tu, ripeto, contrattualizzi tutto e alla fine c'hai una sfilza di contratti dove ogni pezzo che entra lì dentro c'ha un contratto e un pagamento, un contratto e un pagamento. Tu se pensi di fare così documentarista non lo fai, devi cambiare lavoro, quindi c'hai molta roba che devi prendere che già esiste e quindi ti devi imparare ad analizzare almeno a naso, poi appena puoi magari ti fai una mano da un avvocato, però un minimo devi sviluppare quella sensibilità. Ogni pezzo che tu prendi e lo metti in un film, può essere la foto, può essere la lettera, può essere la musica, può essere il canto per strada, potenzialmente è un'opera tutelata, quindi tu devi imparare a scrivere i colpi, cioè a capire dove puoi avere un problema dove non ce lo puoi avere, almeno ad avvisarlo, perché poi uno riconosce i problemi, qualcuno che sa la soluzione lo trovi, ma se tu lo ignori rischi guai, in vari casi. Seconda cosa, poi arriva la domanda, non sempre riesci ad avere il consenso di tutto, non perché non lo vuoi avere, ma perché a volte ti ha fatto l'intervista e poi è passato al miglior vita, è sparito, è spatriato, è un esiliato politico, di tutto, lo sapete meglio di me. E in più c'è queste difficoltà della legge che appunto, insomma, sembra che a volte non sono scritte in un modo che pare che non lo capiscono, che non esistono solo i film di finzione. Domanda? Ricordo una cosa, ma non so neanche perché, forse è una cavolata, non so se ha a che fare con la musica o con i materiali di repertorio, ma è possibile che ci sia un minutaggio sotto il quale invece si... no, non è vero. Lo dico fra tre minuti, no, un quarto o due, ci arrivo, così non perdiamo il filo. Proseguo nello spiego breve, se mi dilungo troppo ditemelo, di questa catena di diritti, perché tanto è il filo conduttore di tutta questa lezione, non ce n'è un altro. Il primo blocco di persone coinvolte sono gli autori, quelle quattro categorie. Dagli autori, che sono quelli che hanno l'opera intellettuale, cioè che intellettualmente realizzano l'opera, i diritti passano e diciamo la stessa ora intellettuale non si può estrinsegare se non c'è l'altro polo, cioè il polo produttivo. Quindi la figura del produttore, che è per definizione un imprenditore, mentre gli altri per definizione sono dei non imprenditori, cioè sono proprio due realtà completamente diverse, almeno nel nostro sistema, diciamo il sistema statunitense, col film making si mischiano un po', succede che c'è quest'altro soggetto per definizione, cioè per definizione di legge, tu non c'è un film, tu non c'hai un produttore, che è quello in capo al quale vengono ad esistenza questi diritti di utilizzazione economica sul film, in quanto lui ha organizzato e finanziato la produzione, quindi gli aspetti sono che lui è un imprenditore, imprenditore vuol dire che tu fai delle attività pratiche, mentre gli altri le fanno intellettuali principalmente, non è che scrivi, ma semmai scrivi contratti, rapporti con le banche, organizzi il set, le pub, eccetera, eccetera, e finanzi questa attività, non solo, ma finanzierai e regolerai economicamente anche i rapporti con quelli dello step prima, cioè con gli autori, di cui questo concetto di catena di diritti, che riguarda ogni singolo passaggio. Qui che succede? Sempre tanto per dare le coordinate, sorvolando su varie questioni da avvocati, della legge scritta male, hanno cambiata, l'hanno ricambiata, comunque il produttore per legge ha, in quanto mette i soldi e organizza, cioè chi fa quel ruolo ha per legge comunque il diritto di usare economicamente l'opera, quindi per dire se fate produttori, vi dimenticate di fare i contratti con un autore, se veramente è provato che avete speso i soldi, avete fatto attività, vi siete sbattuti, avete fatto il lavoro del produttore, comunque una qualche tutela rispetta per legge. Il guaio qual è? È che se non avete fatto i contratti, come anche agli autori spetta il diritto, anzi spetta per primo a loro, il diritto a ciascuno di loro di sfruttare economicamente, a uno il soggetto, all'altro a sceneggiatura, al regista all'opera di regia, a quello che fa le musiche, le musiche, se non avete fatto i contratti le due cose si accavallano, quindi diventa un po' una confusione, fatte le cose fatte bene, si devono fare dei contratti con ciascuno di questi soggetti, che magari l'avrete visti, è capitato di sfogliarli, sono i classici contratti con cinque pagine di elenco di diritti, perché chi si mette a produrre mette in chiaro che i diritti di sfruttamento economico passano da chi ha fatto l'autore a chi deve poi produrre e realizzare il film? Chi è che non ha mai visto un contratto di cessione dei diritti? Alzi la mano? Tu fai la produttrice, non ha mai visto un contratto di cessione? No, traduttrice, scusa, chi era la produttrice? C'era qualcuno che ha detto traduttrice? Era sempre lei, io ho sentito male? Mamma mia, sono proprio testo, va bene, quindi contratti di cessione, quindi se non è tanto familiare come concetto che vuol dire? È un contratto dove io valo da chi ha scritto il soggetto, quindi l'ha scritto, non c'è solo idea, ma c'è uno scritto che ha una sua originalità nella forma in cui ha raccontato la storia, perché se no non c'è senso che lo pago, perché l'idea io gli do i soldi, ma arriva un altro se la fa uguale, quindi gli sto pagando una cosa che non serve a nulla, quindi se proprio voglio bloccare l'idea o lo metto sotto esclusiva, ma fai un acquisto su una cosa che c'è scritta, andiamo lì, andiamo a girare dal tipo, mi racconti come lo fai, chi becchi, come lo scaletti, quando ci andiamo, questo che fa, è inutile, quindi ci deve essere una forma narrativa, io acquisto i diritti a sfruttare economicamente in qualsiasi modo quello scritto, quindi diciamo in prima battuta a farci un film, però di solito nei contratti si mette un po' tutto, perché è un campo talmente che facilmente ti metti a disquisire, basta vedere il documentario, io ho scritto un contratto e dicevo ne faccio un documentario, oggi ne faccio un fact all'entertainment e poi mi dice beh io non te l'ho dato, hai scritto documentario e quindi è così succede per tutto, quindi normalmente questi accordi sono molto ridondanti, sono molto particolareggiati, in cui dice senti io ti do i soldi, tu mi dai quello che c'è in mano, io cerco a farci qualcosa che mi pagano in questi tempi, è già abbastanza complicato. E questo è il produttore, come figura, come faccio a capire chi è il produttore? Allora, c'è un sistema, sta scritto sul film, bravo, esatto, sta scritto sul film, in realtà sta scritto da più parti, c'è tutto un sistema di presunzioni, quindi come dimostrare i propri diritti, che riguarda il produttore ma riguarda in realtà anche gli autori, cioè in tutto questo campo c'è un po' il principio del firma, firmalo e da lì partiamo, per cui l'autore si presume salvo prova contraria chi nelle forme d'uso è indicato come tale, per cui se è un manoscritto si presume che l'hai firmato, se è una sceneggiatura si presume che sulla copertina c'è scritto chi l'ha scritta, eccetera, eccetera. Per i film va il principio dei titoli, per cui i titoli fanno presunzione non sono solamente un uso così di brassi, sono una cosa importantissima, perché se tu metti uno nei titoli con un ruolo, per legge si presume che quello ha quel ruolo, in particolare per il produttore pesa soldi, cioè quello si presume fino a prova contraria per legge che il film è suo e quindi lo vende, lo cede, lo ipoteca, se fallisce non si sa più dove finisce, è molto importante. L'unica presunzione che può essere superiore a quella dei titoli per le opere cinematografiche, cioè per le opere che hanno tutta la procedura ministeriale per cui passi il visto censura, devi mandare una copia in CIA e al pubblico registro cinematografico, eccetera, vale questa presunzione più formale del pubblico registro, cioè al pubblico registro cinematografico sta presso CIA e al pubblico registro non è che sei obbligato a mandarcelo sempre, cioè tu puoi anche fare un film volendo, non lo trascrive al pubblico registro, diciamo che è un tuo onere, ti conviene perché se tu al pubblico registro fai risultare, vai e ci metti il contratto col tizio che ti ha venduto i diritti col soggetto, nessuno può andare a essere comprati prima di te a meno che non l'ha registrato prima di te, cioè quella è una prova certa, legale del fatto che in quella data i diritti sono diventati tuoi. Quindi quando si fa un film di solito, se prendi i fondi statali sei obbligato per legge, se no non te li danno, ogni step tu prendi e notifichi a tutte le parti e vai a depositare in CIA, è una quantità di carta che non finisce più, bolli non ne parliamo, però insomma dai un po' di certezza e quindi quando, diciamo, è anche utile per chi poi si trova dopo a volersi cautelare, insomma devi capire un film di chi è, se è un film da cinema la prima cosa che fai è che fai al PRC, fai delle visure, ti scartabelli tutti i cosi e capisci un po' tutta la storia di questi film, che insomma poi non vuol dire che la ricostruisci tutta, perché a volte ci sono dei buchi, può essere appunto la società fallisce, sono dei pasticci che non finiscono più nei film degli anni addietro. Dunque il produttore diciamo è quello che quindi per legge ha comunque riconosciuto un suo diritto di sfruttare il film economicamente, questo diritto in un modo un po' più articolato che diciamo gli sottocasi, c'è che vuol dire sfruttarlo, sono questi articoli qui che vi metto, però senza che andiamo troppo nel dettaglio, diciamo farci il mestiere del produttore base, venderlo per mandarlo al cinema e nei canali di sfruttamento principali, quindi questo articolo ti spiega noleggio e prestito, riproduzione, lì dentro se interpreti ci sta più o meno tutto quello che è il normale mestiere del produttore. Non ci stanno però molte altre cose che vanno un po' oltre, esempio per tutti, elaborazione, lì non c'è, cioè come mestiere normale il produttore si presuppone che non ci rientri il fatto che io oltre a fare un film poi faccio una seconda versione o magari faccio un remake, faccio un sequel oppure diciamo andare a fare la serie televisiva, oppure se è un documentario ho fatto il documentario ma poi voglio fare magari un'altra versione, non è detto. Questi qui sono tutti i diritti infatti che non sono il mestiere essenziale del imprenditore che vende l'opera, ma sono dei diritti che di base stanno in capo agli autori, quindi sono proprio quei famosi diritti che devono stare nei contratti di cessione se sono scritti bene, è il motivo per cui serve fare i contratti di cessione, perché la legge nel dire il produttore che può fare è molto limitata. La pratica però, appunto la prassi, contrattuale è che questo settore è talmente sempre in evoluzione, lo puoi reinterpretare sempre, già pensi all'universo mondo e internet, già solo per definire, quando tu fai uno streaming che è tipo di diritti sfrutti, perché c'hai copie temporanee in locali, c'hai le copie di cash in un ordinamento in un altro stato, i server non sai manco dove stanno, cioè sono cose talmente complicate che se tu stai stretto nello spiegare che diritto ti sei preso, facilmente, il primo che arriva ti dice guarda sta cosa non la puoi fare, sta cosa non la puoi fare, sta cosa non la puoi fare, se tu i diritti li hai venduti a qualcun'altra volta, a un distributore, ci hai fatto una copertura con un finanziamento che ti hanno dato, ci hai guai dappertutto, perché le banche, i canali eccetera, tutti ormai ragionano con dei contratti di vendita che hanno degli elenchi molto ampi di diritti ceduti, quindi in pratica vai per sottrazione, cioè se togli qualcosa si nota che l'hai tolto, ma se no si presuppone che l'elenco è proprio omnicomprensivo, questo in realtà, non so se qui c'è qualcuno che mentre dico questa cosa sta pensando che, non so, essendosi trovato dal lato dell'autore, sta pensando quindi che quella è una prassi un po' frutto della grudeltà dei produttori eccetera, diciamo che è un po' una prassi che è frutto di come funziona il sistema e c'è in realtà una ragione molto profonda, che è nel fatto che esiste un principio secondo il quale chi crea un'opera intellettuale per tutelarlo, la legge dice se questo signore non ha ceduto in modo chiarissimo ed espresso un sottotipo di diritto si presume che se l'è tenuto, questa cosa lo tutela molto, però nello stesso tempo crea da parte di chi compra, nel dubbio che non si capisca che ha preso una cosa, l'esigenza, siccome in continuazione si inventa una piattaforma di sfruttamento nuovo, di fare queste lunghe elencazioni. concetto è chiaro? Perfetto. La durata dei diritti di cui parliamo è, ho detto che c'è quelli che il produttore ha di suo e quelli che prende dagli autori, questi secondi in realtà si overlappano, sono pure le stesse facoltà, sono più ampi, quelli che il produttore ha comunque di suo perlegge sono 50 anni da quando il film è finito, da quando è fissato, se è un film che poi non rimane, si spera, inedito ma viene proiettato, un film che dalla prima pubblicazione decorre questo termine. Invece per quanto riguarda i diritti degli autori, i diritti degli autori durano 70 anni, quindi un termine più lungo, 70 anni partono dalla morte dell'autore, se ci sono più coautori come ci sono sempre per un'opera audiovisiva, dalla morte dell'ultimo degli autori. Il calcolo in realtà è un pochino più complicato di quello che sembra, il calcolo di questi 70 anni perché ci sono state delle interruzioni nel periodo della guerra, delle proroghe che poi hanno dato quando hanno fatto il trattato di pace, quindi di fatto quando, se vi trovate a dover prendere dei diritti da repertori e capire, ecco lì c'è chi si occupa di archivi, che è un tipo di lavoro che se lo impara a fare sul campo, se serve capire se ci sono i diritti, in realtà il calcolo non è proprio immediato così, ci devi mettere un attimo perché appunto devi ricostruirti su tutti gli autori quando è che c'è l'ultimo e andare a fare… Sono dei database su internet, sono abbastanza utili, l'unico che poi diventa sempre dal grado di rischio che c'hai e quindi di accuratezza che poi… ci sono alcuni database più o meno accurati, diciamo che spesso questi database hanno, come è normale che sia, un bel disclaimer da qualche parte che ti dice, non abbiamo fatto tutti i controlli del mondo, siamo stati accurati, però poi non ti do la garanzia, se tu ti trovi un problema legale su affari tuoi, nel senso che come è normale, perché se no sarebbero dei folli, quindi comunque una verifica, certo se io faccio un'opera piccola, o anche se ho uno scarto temporale, il film è talmente vecchio che ci sto fuori da 15-20 anni, va bene, però se stai lì un po' più vicino, non sono mai riunocchio e glielo dai, poi scelte di caso in caso insomma che vanno fatte. E' uguale per le musiche, anche per le… per le opere musicali? Si, cioè l'autore di un'opera musicale ha sempre 70 anni dall'autore, vuol dire lui che l'ha composta. Quindi io al massimo posso ricomporla, ma non posso usare una registrazione di qualcuno così. E per fare cosa? La mia domanda è se prendo per Elisa di Beethoven. Quella è scaduta direi come diritti sulla composizione. Esatto, penso anch'io. La riarrangi, i diritti sull'arrangiamento sono tuoi. Quindi devo comunque risuonarla? Sì. Perché altrimenti c'è l'esecuzione che ha un altro diritto. che parte, sempre cinquantennale, però in realtà quello c'è stata, non so se l'avete eseguita, di recente c'è stato un casus belli che è durato un anno in Unione Europea perché stavano andando a scadere i diritti dei performer, cioè di tanti, dei Beatles per farci capire, e dopo una serie di pressioni di lobby pazzesche li hanno estesi da altri vent'anni, perché sennò appunto tutti i diritti, cioè la… Su che base? Eh? Su che base? Hanno premuto talmente tanto sul Parlamento che è passata una direttiva che ha esteso i diritti dei performer e che adesso sono arrivati vent'anni più avanti. Quello che dici tu, c'è problema, per senso tutto ti prendi musica classica di un compositore che sicuramente non ha più diritti, basta che non prendi la traccia di un produttore famoso con i diritti che l'ha suonata, di recente si presuppone, ti rifai tutto da capo, fai quello che ti vale, senza problemi. I film non si possono sfruttare nemmeno segmenti costantissimi? Eh, boh, rispondo probabilmente a che ci arrivo, vado un po' in ordine, tanto per… è la stessa domanda che ha fatto lei, tre minuti, insomma, lì è un po' il… uno dei punti che sicuramente ci soffermiamo un po' di più oggi. Dunque, tutte cose che vi ho un po' detto, queste le facciamo veloci e poi iniziamo a vedere tutto quello che possiamo mettere dentro al film. magari, ecco, facciamo pure la pausa un pochino prima, perché così io finisco tutto una… sto discorso sulla produzione e l'impostazione, poi siccome molte domande vanno lì e in più una parte che seconda, parliamo un po' meglio degli archivi, di mettere dentro le sequenze dei film, mettere dentro un po' di tutto, le immagini, la prova, quasi tutte queste varie le robe proprio più specifiche. Queste cose un po' ve l'ho detto, attività attuali, la catena contrattuale, l'evoluzione che qua vediamo, questo pure. Allora, qui probabilmente a livello di… a livello, volevo un attimo completare, a livello contrattuale, quindi, dunque, per finire il concetto, quindi, produrre questo film vuol dire, dal punto di vista, diciamo, legale di un avvocato, un film che sarà il concetto reduttivo, alla fine, quando io l'avrò finito, sarà un insieme di contratti, volevo dare questo concetto, è un concetto scioccante, contratti scritti, perché per legge, se non sono scritti, i trasferimenti di diritti, non sono dimostrabili, è previsto il requisito della prova per iscritto. Quindi, nell'ordine devono esserci, come minimo, una documentazione scritta che fa vedere il passaggio da chi è l'autore al produttore, e questo è il primo step. Poi, ci sarà tutta una parte, siccome noi parliamo di factual, di accordi scritti, liberatori, quello che è, che documenterà l'inserimento all'interno dell'opera di cose presistenti, dico cose proprio per essere il più largo possibile, possono essere, abbiamo detto, le foto, possono essere le musiche, possono essere quadri che riprendo, scritti che riprendo, corrispondenza che riprendo, tutte queste cose che nomino, potenzialmente hanno diritti sopra, di vario tipo, di copyright, diritti di privacy, diritti di proprietà, eccetera, eccetera, quindi il primo aspetto è prendere tutti i contributi autoreali, l'altro lato è prendere tutti i contributi preesistenti e sempre porsi il problema, capire se hai diritti, regolarlo auspicabilmente per scritto, in modo che è chiaro che io lo posso usare. Poi di produzione che è puramente, diciamo, di permessoalistica, di questa spesso quando uno fa il documentario un po' se ne infisca, nel senso che poi alla fine si riesce a girare, riesce a girare, però tutto quello che vuol dire entrare in luoghi, quindi permessi, location, giro per strada, eccetera, eccetera, quello è tutta un'altra parte, però lì in realtà non ci stanno problemi di opere intellettuali tutelabili, cioè mi spiego, se io riesco a entrare in un posto e giro, diciamo, riprendo una serie di quadri esposti, che ne dica il museo di turno, il proprietario di turno? In realtà se io sto violando dei diritti sui quadri, dipenderà dalla domanda se quei quadri sono ancora soggetti a copyright o meno, non è che perché ho scavaccato del cancello, io violo il copyright, il copyright o c'è o non c'è, che se ne dica. Il discorso della proprietà è un altro, cioè che chi ha la proprietà spesso ti può, come dire, ti crea una presunzione di legittimità di quello che hai fatto, per cui se ci stanno i diritti e stavano dentro a una sfera di proprietà di un altro, è chiaro che se non c'è il quadro del medioevo te lo prendi, esatto, il quadro del medioevo non ha assolutamente diritti di nessun tipo, l'unica cosa, quindi per chi lo ha, che è prezioso, che c'è spesa eccetera, l'unico modo per recuperare in qualche modo è che tutela l'accesso, cerca di bloccarti, per cui dice se tu entri devi posare il telefonino al che fare foto, non puoi riprende se non mi dai 100 Euro, eccetera. Poi altro terzo settore dell'attività di produzione riguarda tutto quello invece che sono le riprese originali, le riprese al vivo che io faccio, perché ho detto uno è contrattualizzare i contributi intellettuali, un altro è ciò che già esiste e ce lo infilo dentro, l'altro appunto è verificare che ho il permesso di utilizzare l'immagine delle persone che riprendo, quindi capire in che contesto le vado a riprendere e diciamo di raccontare o perché lo riprendo o perché comunque lo spiego con uno speaker eccetera, dei fatti che possono essere notizie, informazioni coperte da privacy, informazioni personali, quindi delle persone interessate. Poi l'altro spicchio ancora dell'attività di produzione riguarda tutto il discorso della commercializzazione dell'opera, la commercializzazione dell'opera è qui pure, capisco che la vostra aspirazione è comunque produrre o comunque è il concetto di come finanziare l'opera e come commercializzarla, si tratta di mettere insieme un paio concetti che abbiamo, di fatto io nel momento in cui vado a vendere, come ci insegna il caso della liberatoria, anche se era solo per una produzione gratuita, chi prende da me deve capire in forma scritta, cioè deve identificare in forma scritta cosa sta prendendo, quello che sta prendendo di fatto è tutto quello che abbiamo detto, cioè io produttore sono fatto un imbuto, sono le estremità dell'imbuto dove devo far vedere che ho convogliato tutti i contributi intellettuali, le autorizzazioni, usare tutto quello che ci ho messo dentro e diciamo quell'altro tipo di permessi e accordi che mi possono servire. Inevitabilmente quando io vado a vendere l'opera devo dichiarare e garantire che ho tutta questa roba, a volte anche dimostrarla, comunque me ne prendo la responsabilità io, vuol dire che se c'è un problema sì, magari anche l'altra persona sarà coinvolta, ma io sicuro sì, proprio non c'è assolutamente via d'uscita, quindi la delicatezza del ruolo è tutta qui, che è il fulcro dove devono convogliarsi a livello legale tutti questi aspetti e se scricchiola uno rischia di dare problemi agli altri, perché tu se c'è un contratto di vendita e poi salta fuori che non c'hai un diritto a monte dato dall'autore, chi ti ha dato dei soldi c'ha diritto a fartelo saltare, farsi dai soldi e chiederti danni, quindi è una cosa che è uno step e legato all'altro. In due sensi, non solo nel senso della vendita, ma nel senso ancora prima del finanziamento, perché tutto quello che abbiamo detto, che di fatto, ripeto sempre, sono come tre tronconi prima, poi questo imbuto e poi la fase di vendita, in realtà è tutto circolare, io in realtà un film, se parliamo di produzione a un minimo livello, lo vendo mentre lo faccio e lo finanzio vendendolo, quindi le due cose sono completamente speculari, il caso in cui io prima lo prendo, poi lo finisco, poi vedo se qualcuno se lo piglia, è un caso che poi più vai nel mercato, ma anche a livello piccolo e meno esiste, perché pure una piccola produzione, di fatto è commissionata da qualcuno, quindi ho già trovato quello e qui lo devo dar dopo, quindi è impegnandomi a dire che lo farò in un certo modo, che ottengo i fondi per riuscire a finanziare tutte quelle attività di acquisto dei diritti dagli autori, acquisto delle musiche da quell'altro, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi in questo senso, questa catena contrattuale è il concetto assolutamente cardine di tutto, deve essere perfettamente non interrotta, deve acchiappare tutto, cioè io per ogni pezzo che va lì dentro devo avere una checklist dove o c'è un pezzo di carta scritto, oppure sono sicuro perché mi sono andato a controllare, mi sono un po' imparato come funziona le leggi, che c'è una norma di legge, anche se non c'ho il contratto e mi dice in questo caso non si servono pezzi di carta e questo è quello che vediamo nella seconda fase, un po' queste eccezioni, un po' di legge, questo diventa un po' troppo dettagliato, però ve lo voglio dirvi un po' in termini generali, a livello di contrattualizzazione produttiva, le figure più ricorrenti sono le licenze, cioè vorrei darvi un po' di definizioni di parole molto ricorrenti, ecco la liberatoria una ce l'ha fornita a lui, le licenze, gli appalti e poi insomma le coproduzioni, devo fare un piccolo accenno, di fatto sono tutte formulazioni in salse diverse di questo stesso concetto che vi ho detto, cioè passano dei diritti da un lato e passano i soldi dall'altro, quello che cambia sono solamente le regole di ingaggio, potrebbero essere pure gratuiti insomma, in astratto in alcuni casi, cioè le regole quali sono? Diciamo liberatoria, di solito, io liberatoria chiamo, liberatoria vuol dire che io libero un tipo di uso, per quello si chiama liberatoria, di fatto concettualmente è come una licenza, non cambia molto, semplificando la liberatoria è molto più semplice una licenza, cioè se io devo mandare un film una volta in sala e faccio una proiezione, faccio una liberatoria di mezza pagina, riesco a dire tutto quello che serve dire, dichiaro che ho tutti i diritti, sono il produttore del film e ti autorizzo a mandarlo nella sala X il giorno d'8, questo è. Licenza è un contratto invece, di solito, un po' più articolato, che come essenza è sempre quello, cioè io do un permesso, cioè do un'autorizzazione, la differenza è che mentre la liberatoria è spesso pure gratuita e per un uso solo, molto circoscritto, la licenza di solito ha una durata un po' più lunga, almeno di un tot di anni e fa passare quindi un diritto che io cedo temporaneamente, è il classico esempio delle musiche, quando io le sincronizzo, uno che ha scritto la musica non per il film mio, ma è chiaro che non vuole che la sua musica sia per sempre la musica del film mio, me la dà per metterla dentro, però è ovvio che si riserverà di usarla per tanti altri casi, è altrettanto ovvio però che me la dovrà dare per un tot di anni, perché a me se me la dà per due mesi e il film ha una vita di anni, io poi mi trovo col problema dopo due mesi, quindi la licenza dovrà avere almeno un certo ambito di durata, almeno, se ci riesco in realtà, buona norma cerco di farmi la perpetua, se penso che il film ci abbia una certa circolazione si spera che non mi ritrovo dopo anni a dover ripagare le musiche, tutto può essere, se un documentario che io faccio invece, per esempio perché me lo commissionano, ma che non avrà un ciclo di vita lungo, perché è una cosa un po' informativa, posso pure risparmiare qualcosa e magari non acquistare dei diritti perpetui. Quindi faccio questo contratto di licenza, il quale deve avere di fatto come elementi chiari è chi dà, chi prende, cosa viene dato? Sembra semplice, però insomma non è… perché nel caso faccio di nuovo l'esempio delle musiche, chi dà, devo capire, chi è? È l'editore, è l'autore, io anche qui ne vedo in continuazione, ma ha fatto la licenza e chi è? L'autore, sì, ma c'è un editore, eh sì, ma l'hai sentito? No, ma il master te lo sei fatto? No, l'hai inciso? No, il master mi hanno dato loro così, non basta, perché io devo capire quali sono i diritti che mi serve prendere, se chi c'ho davanti me li può dare, se non altro mi deve dichiarare e garantire e lì devo essere in grado di fargli un elenco per capire che mi ha dato quella catena che mi serve per poter dire sto nel giusto a mettere questa musica qui dentro. Quindi chi dà, chi prende, cosa dà? Poi potrà essere gratuita, non gratuita, insomma gli aspetti economici poi si regolano, esclusiva o non esclusiva, quasi sempre quando ci sono documentari ti danno licenze non esclusive, cioè non è prassi, non è normale che io chiedo a uno di darmi in esclusiva il permesso di mettere il mio documentario, esempio delle musiche, no, mi dà della corrispondenza perché la riprendo, perché faccio una cosa di tipo biografia, no, gli archivi, idem, gli archivi non è che li uso io e poi non uso nessuno, quasi mai nei documentari chiedo licenze esclusive. E poi vabbè, insomma altri tecnicismi, questo è il concetto della licenza. Diverso invece dalla licenza è quando si parla di accordo di cessione, accordo di cessione vuol dire che di nuovo c'è sempre chi dà, chi prende, dovrò saper dire quali sono i diritti che passano, però è definitivo per definizione, cioè l'accordo di cessione basta, mi dai i diritti, rimangono a metterlo, ho comprati. Con quei soggetti, cioè con gli autori che sono i creatori dell'opera, per definizione io faccio un accordo di cessione, non farò mai una licenza. Di nuovo, insomma, dico queste cose, non sembra che mi rispondano solo, ma perché sono tutte cose che mi è capitato di vedere, perché il film a me serve che per sempre viene prodotto da un soggetto produttivo che ne rimane titolare, non che ti presto il soggetto, poi fai il film e poi scadono i diritti, è il film che non ci può fare più nulla. Quindi queste sono cessioni definitive, assolutamente definitive. Così come anche a Valle il produttore che deve andare in giro e cercare di finanziarsi il suo film potrà farsi o delle licenze o delle cessioni. Dipende sostanzialmente da quanti soldi di finanziamento, cioè da che tipo di ruolo vuole assumere il soggetto che entra, perché licenza è la classica cosa che io andrò a fare con per esempio un canale, una fondazione, una pubblica amministrazione che non gli interessa tenere solo per sempre, gli serve solo per un certo contesto di utilizzo, canale tipico che ha una finestra di qualche anno, vede i diritti che gli interessano, io gli do un permesso 5 anni, 7 anni, 3 anni, c'è tutta la normativa che regola come sul mercato quanto possono durare, lui mi regola un certo acquisto, quando scadono quei 5 anni quei diritti tornano a me, io ce l'ho di nuovo, posso vedere se qualcuno li rivuole, magari lui stesso glieli rivendo, di solito varranno di meno, man mano che si va avanti un po' si deprezzano, tranne pochi fortunati casi, mentre in altri casi io farò proprio una cessione di diritti, in realtà non la chiamerò più cessione di diritti, ma vuol dire che di fatto quello che faccio contiene una cessione di diritti, cioè gliele do per sempre, il modo in cui lo chiamo sarà che o diventa un coproduttore, è uno che arriva e mi dice guarda se il budget che vuoi spendere è 100, io arrivo, rilevo una quota da 20, da domani io c'ho il 20% di tutto quello che stiamo facendo, di quello che esiste ad oggi, io entro sul 20, oppure vuol dire che è avvenuto un appalto, che è un po' quello che ti ha fatto lì, l'appalto si usa spesso su alcune produzioni televisive non grandissime, cioè è una figura che se fate produzione vi capirà spesso, perché l'appalto praticamente vuol dire che ti commissionano un lavoro, quasi sempre in full commission, cioè ti danno un budget, io ti do 20, 30, quello che è, mi devi portare a casa entro questi termini, questo tipo di lavoro, io ti do le approvazioni su quello che fai, anche nell'appalto, cioè di fatto una cessione di diritti praticamente automatica, cioè chi te lo commissiona, siccome ti dà i soldi per fare tutto il lavoro, man mano che tu lo fai è suo, anche i respiri, lui sta comprando tutto quel comparto d'attività, quindi da tutto quello che lui ti dà, in automatico i diritti passano su di lui. Quindi, qui qui? Domande, dubbi? Eh, prego. Due domande e poi mai rifacciamo la pausa pure, ma cinque minuti. Io volevo chiedere una cosa, cioè tralasciando la questione del produce placement che, vabbè, non penso che tratteremo qui. Mi è capitato su un set di una, set di fiction però, commissionata eccetera, c'era una scena in un supermercato. Si vedevano i marchi. Si vedevano i marchi e ci venne, se si blocco il set per dieci minuti, cioè che famo? No, gira e scato. Eh, c'è, passa col chiarello. Alla fine giriamo, decidiamo di girare tutto, ma quello che volevo chiedere io è il brand, è proprietà intellettuale, cioè è un'opera di ingegno, quindi è... Il brand è, siamo su una famiglia affine a quello di cui parliamo noi, non è un'opera intellettuale, però è un asset industriale tutelato, cioè il brand è quasi quello di cui parli te, tutelato da marchi registrati che valgono un sacco di soldi, quindi qual è il problema? Che... no, interessante come domanda. Allora, ci sono due... sono diversi tipi di problemi. Allora, un tipo di problema è che, premesso che è un marchio registrato, che vuol dire? Vuol dire che l'azienda che ha quel brand, per legge è l'unica che può sfruttarlo commercialmente, in qualsiasi modo, quindi tu potresti fare magliette con quel marchio, no? Ok. Metterlo dentro un film, in un qualche modo vuol dire sfruttarlo, è un po' il discorso della musica incidentale, cioè a volte fa ridere dire sta cosa, però in un certo modo se si vede, si vede tanto, tu è come se stessi sfruttando il marchio loro, quindi il primo problema che c'è è che l'azienda gli potrebbe scocciare, perché dici tu, lo stai sfruttando, perché si vede, è talmente appealing il mio marchio, che se tu lo metti nella scena di apertura di un film, per me me dovresti pagare. Cioè, questa è la prima visione che può sembrare anche vaneggiante, però è un primo profilo del problema. Il secondo profilo del problema, connesso, qual è? Che a seconda di quello che tu fai, ma non è il caso tuo, invece è il caso dei documentari, all'azienda gli potrebbe proprio scocciare che te lo metti nel tuo documentario, questo per esempio è capitato, capitato che una marchia di caffè, faccio i nomi perché mi registrate, sono castrato nel fare molti esempi pratici, perché non potrei, però è successo un caso in un film prodotto di persone, no, in realtà che non ho seguito, ma amiche che conosco bene, erano due gay, quindi c'era tutta una storia semi-autobiografica che loro raccontavano, durante una di queste scene, molto basata su di loro, come tipo di narrazione con loro che si vedono in camera, eccetera, si vede una scena di colazione dove c'è il pacchetto del caffè e la tazzina col caffè per tre minuti, l'azienda l'ha diffidati perché dice io non voglio che tu stai lì con il marchio mio messo in bella mostra su una cosa a cui prendi posizioni molto forti e nette su temi comunque politici e sociali, io c'ho una clientela che magari gli può stranire su questo, levalo, questo è l'altro profilo, c'è l'azienda che dice pure che non lo sputti commercialmente, però comunque mi potresti danneggiare, comunque interferisce la mia immagine. Terzo profilo, ma è finita tra luce e vino perché hanno capito, cioè giocandosela bene che rischiavano un effetto boomerang, cioè permette a tacere la cosa, siccome il bel documentario ha avuto una sua certa visibilità e sta cosa è uscita fuori, hanno capito che era meglio glissare, non so più scenari perché non l'ho seguita io quella là, me l'hanno raccontata dopo. L'altra cosa, sempre connessa al fatto che parliamo di un marchio che vale i soldi, qual è? Che è lì il caso tuo, la fiction, la fiction pronto e va, nasce per andare in televisione, le televisioni campano di pubblicità, nel caso di Rai in parte di pubblicità, quindi che succede? Che in una televisione c'è un dipartimento che gestisce i rapporti con la concessionaria, la quale appena vede un marchio che non gli sta bene, che è uno dei clienti che non ha pagato, è uno di quelli che sono contrari ai loro clienti e che però ci compare, da di matto, cioè nel senso sono rigidissimi su questa cosa, quindi facilmente tu metti i marchi lì, considerando che in teoria tu su una fiction potresti andare a negoziare con marchio e dire senti, io devo inquadrare uno scaffale per tre minuti, quanto mi offri? Esatto. La regola è che non puoi far vedere roba così tanto per, tipo le macchine, le macchine lo saprai benissimo, tu sei pure operatore, però non fai ficcio, però le macchine che tu in un film, se ci fai caso, vedi gli scudi, i marchi delle macchine, se non hanno pagato te lo scordi, perché spesso pagano, sono i classici investitori dove due soldi li vai a prendere, o almeno ti danno le macchine gratis, non penso io, c'ho un set, spendo un milione, due milioni, cinque milioni, c'ho macchine da una parte o un'altra, ti metto le macchine due, che mi sono dovuto pure noleggiare il pagamento mio, ti faccio vedere il marchio nel film mio, ma neanche se no, quindi questi sono i tre… sul documentario che succede? Che te spesso vai da una parte non è che puoi prendere e fa sparire la roba, cioè se tu devi intervistare uno che dietro c'è un qualcosa, è un po' il discorso pure della musica, non è necessariamente smontare un ambiente, anzi, a livello anche, diciamo, odontologico, se lo fai in modo troppo massiccio sarebbe anche snaturare quello che fai, no? Cioè, se mi prendi in un posto che io vivo con tutti i quadri dietro Campbell o con i marchi Coca-Cola, che fai? Mi dici no, dipingi di bianco, quindi lì per definizione ti trovi a non farlo, quindi che succede? Che anche qui, ahimè, sei un po' legato a delle leggi molto tagliate con l'accetta e al contesto poi di dove vai, perché per esempio sui canali, lì spesso devi blerrare le cose, perché quando le giri non le vuoi far sparire, un minimo puoi tentare, angoli in un modo o in un altro, però certo se è troppo palese il canale che ti compra una cosa, te lo spiega, ti dice guarda, abbia pazienza, da noi ci crei un problema, perché non posso mandare in onda la roba così, ma poi non lo può mandare in onda non solo perché c'è un problema interno economico di concessioni, raccolta, ma pure perché poi loro hanno un problema di normativa, cioè tutto è complicato, niente è semplice, ma perché loro stessi i canali per legge devono separare i contenuti pubblicitari dai contenuti editoriali, quindi tutti i casi product placement, le sponsorizzazioni, quello è regolato per legge, cioè vanno nei budget, o va raccolta o va sul prodotto editoriale, hanno regole interne diverse, rendi contazioni diverse, quindi insomma sono vari problemi, è complicato, ha detto un po' teori, sono sempre registrato. Però Paolo Paolo, facci dire una cosa, nel caso delle televisioni l'accordo si raggiunge facilmente, perché io le posso fare degli esempi che faceva l'emittente dove io ho lavorato molti anni, Telenorma, allora che succedeva, veniva uno che metteva l'acqua minerale, non so come si chiama quella, in bellissimo mano, e io dicevo, vabbè, hai fatto benissimo a metterla, andavo dal cliente, buongiorno, vuole vedere il film che noi dobbiamo mandare domani, c'è questa acqua minerale in bottiglia, lei ci fa un bel contrattino così noi possiamo anche dire alla fine che c'è la bottiglia, e abbiamo fatto il contratto, abbiamo guadagnato, non abbiamo perso, e tra l'altro chi ci ha perso è stato chi ha fatto il film, che ce l'ha dato gratis, chi ci ha perso e chi ha ceduto, il produttore ci ha perso, perché quei soldi li ha incassati l'emittente, non li ha incassati il produttore. Ma anche in che anno avveniva questo? Ah, fino a pochi anni fa, fino a due o tre anni fa, non è che, credo che avvenga anche oggi, non immagino che sia cambiata la politica di un emittente commerciale, la RAI non lo può fare, ma le emittenti commerciali lo fanno. Insomma, poi dipende da emittente a emittente, c'è chi più spregiudicato, chi meno. Diciamo questo, che poi c'è il tira e molla tra il canale e il produttore, nel caso della fiction, tra i quali spesso c'è un tira e molla, nel senso appunto, il discorso da lei che le fiction li può andando a vedere, spesso le fanno in appalto, quindi gli danno i soldi al produttore per farlo, e anzi su questo spesso si scontrano, perché dice io ti do i soldi, poi che fa? Tu ti raccoglie i fondi per mettere i marchi dentro il prodotto e va sul canale mio, e no. Non esiste. Esatto, non esiste, a volte esiste, quindi insomma alla fine vedete un po' le situazioni. Diciamo che questo è invece il caso della Rai. Cioè la Rai fa esattamente questo, prende un parlamentare che fa anche il produttore, gli dice non ti preoccupa, fai che cacchio vuoi tu, incassa tutto tu. No comment. No comment. Andiamo avanti con la domanda. Sì, tornando al documentario. Non c'era lui, mi sa. No, ho visto un'altra mano. Sì, sì, ci sta o no? Però era prima. E poi lui ha già parlato. Dove essere qui. Volevo sapere quali paletti ci sono nei lavori su commissione per l'utilizzo da parte dell'autore delle opere. Abbastanza stretti. Il principio della commissione di base è che se io commissiono una cosa, va in capo a me. È come quello che dicevo prima dell'appalto, no? Se io incarico qualcuno, per esempio, di scrivere, no? Parliamo. Incarico qualcuno di scrivere una sceneggiatura, cioè fra un autore e un produttore. Servizi fotografici. Ah, servizi fotografici. Allora, lì ci sono delle, sono proprio delle, insomma, gli articoli sono un po', sono altri. Non c'era tempo di vederli. Però il principio è abbastanza lo stesso. Allora, se io commissiono un servizio fotografico, allora, commissione com'è? Scritta? Cioè, è chiaro che è scritto che io l'ho commissionato io per darmi la mia? No. No. Allora, non lo so, va un po' studiato tutto in concreto. Diciamo che di base, se io, chi commissiona... C'è una fattura di, sì, a posteriori di... C'è scritto una fattura. Cioè, nel senso, poi va tutto, io dico il principio. Se una persona riceve un pagamento per aver fatto un servizio fotografico o per aver venduto delle foto, ha fatto un altro. Fatta così, con la fattura, in realtà, ho margine per rivendicare che te le usi, se poi, non so che... No, è un fotografo, no? Sì. Per farci, se non altro, un book, una mostra, una cosa, c'è stampo a dei margini. Diciamo che normalmente, se uno te le commissiona, di solito, cioè di solito, in astratto, se ti fa due righe e ti dice, ti commissiono io il servizio fotografico, se quello che ti paga è congruo, in teoria le foto diventano sue. Punto. Cioè, una volta ti diceva, mi dai dei negativi, al tempo del negativo, nel senso, perché è mio, l'ho pagato io, ti ho saldato tutto. Che succede? Che a volte, siccome ti pagano di meno, spesso si scrive proprio e diventa un accordo che ormai è abbastanza naprassi, che io dico, beh, senti, ti do questo, che mi rendo conto che non è la luna, però comunque tu magari fai dei begli scatti e te li tieni pure. Spesso sono capitate pure cause, perché quello che molte volte è successo, anche su servizi grossi, che c'era la commissione per avere un servizio su una serie di, cioè su un personaggio per esempio, che andava a seguire un evento, per un tot di scatti, che ovviamente erano sovrabbondanti, dove il fotografico se ne ha usato altri per farci altre cose, e lì c'è stata proprio giurisprudenza, la quale in realtà su questa cosa non è proprio tanto tanto bianco e nero, diciamo che il principio è un po' quello che ti dico io, siccome la commissione vuol dire che io ti pago a fronte di questo, viene tutto in capo a me, dipende abbastanza dalla circostanza e dalla congruità, cioè uno che per dire, da dato, è un prezzo che chiaramente è inferiore all'utilizzo di tutti i diritti in perpetuo di queste foto, c'è abbastanza margine per dire che certi utilizzi che non lo vanno a, diciamo, a cozzare in nessun modo ce li hai, il problema però che ti sorge è un altro, dipende pure che foto sono, perché per esempio se sono ritratti, sul ritratto no, perché sul ritratto c'è il suo volto, quindi senza il suo permesso, se invece per esempio sono foto su eventi pubblici, hai fotografato eventi pubblici con dei personaggi pubblici, quindi erano comunque foto libere, perché se stanno per strada dei politici, il cantante, chi sia sia, lì non hai un problema di immagine del soggetto raffigurato e puoi dire che siccome era un incarico che certamente non era pagato quello che è il valore commerciale di tutta l'opera, si presume, direbbe la giurisprudenza a queste sentenze che siano passati solamente alcuni diritti, cioè che in base alle circostanze loro dicono, passano i diritti, che è ragionevole ritenere che siano passati, considerate le parti, l'oggetto, la valorizzazione economica, insomma, sono delle sentenze un po' complicate, è un po' una cabbala, insomma, se fai una causa su queste cose, perché è difficile… Io ho trovato contratti in cui era esplicito che non potessi utilizzare in nessun modo, esatto, però quando invece non ci sono questi contratti… se non è espressamente evitato e da quello che ti hanno dato e dalle circostanze ragionevole pensare che non è che ti hanno voluto arrivare a tutto, ripeto, se non hai poi un problema di tipo diverso, perché hai fotografato quello che sta a casa sua e dici, no, scusa, i ritratti miei non puoi metterti a commercializzarli, tu non hai margine per… Anche per esempio per un uso di portfoglio, di showreel su web, immagino che non ci sia. Sì, soprattutto se è quello che è un uso di tipo anche promozionale ma non di ingaggio lui vero e proprio, il problema è se le monetizzi, cioè se fai una cosa e te la pubblicano… Insomma, ripeto, i fotografi famosi che hanno fatto i ritratti, le classiche foto-ritratto di personaggi, di fotografi che poi sono diventati sempre più conosciuti, eccetera, eccetera, poi hanno fatto le mostra, hanno fatto i cataloghi, certe foto sono finiti ai cataloghi… Molte volte sono delle fotografie che comunque il fondo, chi sia, l'agenzia, poi l'ha gestita la cosa, nel senso che o si erano già messi d'accordo che lui potesse farci delle mostre, eccetera, oppure hanno tentato poi dopo di rinegoziarlo, anche perché poi è arrivato a un certo punto, insomma, non è anche detto che tutti dicano sempre di no, cioè insomma in questi casi di celebrazione… Ci sono interessi convergenti… Eh, capito. L'altra domanda e poi forse potremmo fare una pausa perché sono le 35. Dieci minuti. Prego. Ti volevo sapere quanto elastica l'interpretazione del diritto di cronaca, per esempio nel documentario d'inchiesta, cioè sfruttare immagini di… possono essere televisive o anche il fatto che compaia un'azienda che però è necessario che compaia per un racconto, a quel punto si va sul… cioè c'è il diritto, se c'è il diritto di cronaca e poi in sede giudiziaria si valuta se legittimamente o meno io ho messo in cattiva luce questa azienda… Facciamo prima la pausa e intanto parliamo molto di questo. Ok. Vediamo se quello che dico basta e se no mi fa altre domande per approfondirlo. Allora… Quanto tempo abbiamo? Ma che ora finiamo noi? Alle 18? Sì, sì. Sì, sì. Abbiamo un'oretta. Quindi come promesso, ormai la cadena di diritti, acquisizione, cessione, come passano questi diritti, non so, vi ho sufficientemente annoiati. Adesso vediamo un po' di casi specifici di contenuti che confluiscono nell'opera documentaristica. Dunque, partiamo dal… dal diritto d'immagine, no? Quindi riprese… riprese dal vivo ma non solo, cioè necessariamente, perché l'immagine di altre persone può venire in gioco, o perché le storie prendono di repertorio, in entrambi i casi ho da pormi la domanda se sono autorizzato o meno. L'immagine della persona in qualche modo è un suo bene, sia dal punto di vista della riservatezza e questo riguarda tutti, sia, e questo invece riguarda solamente personaggi noti, famosi, al punto che la loro immagine può essere monetizzabile, anche un aspetto economico. Le regole sono queste, che però continuano a sparire dallo schermo, io non so come fare, però insomma sono… in sostanza non è che sempre la persona debba, diciamo, autorizzare l'uso dell'immagine. La regola generale è che se io devo chiedere l'immagine a qualcuno, le animassino, se ho una liberatoria, ovviamente non ho problemi perché lui mi libera l'utilizzo. Poi magari anche due consigli su come si fanno le liberatorie, però non è detto che io debba per forza avere la liberatoria, in particolare ne posso fare a meno nei casi dei personaggi previsti dalla legge che sono, primo quando si tratta di un personaggio noto oppure di una persona che ha un ufficio pubblico, quindi ovviamente politici o qualunque carica pubblica, oppure quando si tratta di personaggi noti, però diciamo in un contesto che non è un contesto riservato, sottoposto esclusivo, dove io sfrutto palesemente la loro notorietà per commercializzare l'immagine. Oppure comunque quando io faccio una ripresa che avviene in pubblico, quindi strade, piazze, cioè in tutti i luoghi dove è evidente che chi ci va ha, diciamo in qualche modo accettato il rischio di essere ritratto da qualcuno. Anche in questi casi però c'è un limite, perché comunque le persone hanno una possibilità di tutela dagli utilizzi che gli altri fanno della loro immagine quando si può dimostrare che viene pregiudicato il loro onore, la loro reputazione e anche il loro decoro. Sono concetti insomma abbastanza elastici, difficili da tradurre. La pratica qual è? Che in molti casi magari non sono problematici, i casi di chi non gli sta bene di essere ritratto è ovvio che tenterà di dire che viene pregiudicato in qualche modo, se parliamo di un documentario e ci ho messo dentro uno che è noto e mi sta scrivendo perché non gli sta bene, cioè nel modo dell'altro lui argomenterà che viene pregiudicato nel suo onore, nella sua reputazione e nel suo decoro. In realtà in questi casi, questi concetti appunto di onore, reputazione, decoro, si finisce facilmente per passare dalla partita sul diritto d'immagine alla partita molto più grossa, che è quella sulla diffamazione, nel senso uno che mi scrive perché io l'ho messo con l'immagine in un documentario in cui parlo di certe cose e mi pregiudica la loro reputazione, cioè difficilmente lo potrò fare io se mi hanno messo mentre giocavo a carte con un amico. Una persona che invece lo fa chiaramente ha un problema riguardo al contesto e quindi riguarda i contenuti che io sto raccontando. A quel punto quindi i contenuti che vuol dire? Vuol dire lo speaker che uso, cioè il testo che sto dicendo, come lo monto e quindi giù sta ponendo immagini, lo posso mettere alla berlina, nel ridicolo o in cattivissima luce, posso caratterizzarlo in mille modi. Facilmente lì diventa un giudizio più complessivo sul se la mia opera ha o meno un carattere di diffamazione nei suoi confronti a seconda del modo in cui racconto di questa persona. Io insomma non sono un penalista, anche se inevitabilmente per questo settore qui spesso mi occupo anche di querele per diffamazione perché qualche volta qualcosa arriva. Come dovendo tagliare qualcosa ho deciso di non addentrarmi molto in questo settore perché tutto un altro ambito è diventato un po' lungo in questo tempo. Però diciamo che lì è rimasto, proprio per fare un piccolo accenno, lì le regole, io so che voi avete parlato anche questa mattina parecchio del contesto giornalistico informativo, quindi insomma un po' del diritto di cronaca, di tutto questo tipo di tematiche. Lì il problema riguarda molto il come della narrazione ai fini di chi fa un documentario, cioè il fatto che comunque il modo in cui le cose vengono raccontate debba essere sempre equilibrato, basato su qualche tipo di fonti e deve seguire il principio della giustizia. La giustizia la chiama continenza che fa un po' ridere, però comunque è di un'esposizione che deve essere commisurata al fatto e al contesto. Diciamo che seguendo lo stile cosiddetto anglosassone, classico, british, dove bene o male se si sta facendo qualcosa che è un taglio di inchiesta si dà atto sempre di ciò che c'è dall'altra parte e dell'altra teoria, di solito si riesce sempre a navigare in un modo relativamente tranquillo, nel senso che non vuol dire non ci si becchi di fide, ma vuol dire tutto sommato ci si riesce anche a difendere. Se si va più su fare pamflet, quindi narrazioni unilaterali in cui si vuole rappresentare solamente determinati aspetti di una realtà raccontata, facilmente, semplifico molto, però in effetti il succo molto del discorso è quello, inevitabilmente ci si espone di più, perché poi alla fine sullo sfondo il concetto è sempre quel giudizio all'onore, alla reputazione, al decoro che ha la persona, il quale se è giustificato, perché tutto sommato racconto fatti comunque veri o comunque che hanno una loro veridicità in base alle fonti che io ho, per cui è lecito e ragionevole pensare che fossero fondati perché ho fatto un riscontro sulle fonti, li espongo in un modo corretto, non esagero nello sproporzionare i punti a favore e i punti contro, quello che anche fosse un pregiudizio che lui sente è un pregiudizio che però viene ritenuto legittimo, viceversa è chiaro che io sto facendo un uso della sua immagine o comunque dei fatti che sto raccontando che ha un fine che è un fine di danneggiare questo tipo di immagine che lui ha. Quindi andando poi al concreto nella maggior parte dei casi, in tutti i casi in cui si può, se si può è sempre buona norma avere delle liberatorie scritte. Liberatorie scritte per essere sufficienti devono sempre, come sopra, far capire chiaro chi dà e a chi dà che cosa. Quindi chi dà deve essere il titolare del diritto di immagine, il che molte volte è facile, però nel caso di minori, di soggetti che sono sottoposti a tutele eccetera, viene un secondo di riflessione per capire perché sa di sarebbe che sia il genitore che sottoscriva. Deve essere data, ovviamente se uno fa il produttore si spera che sarà data al produttore, non sia stata data magari all'autore perché in quel caso dovrei farmela passare dall'autore, da essere sempre un passaggio chiaro nel beneficiario che poi sfrutta il film, che cosa viene dato oppure va articolato con un attimo di attenzione, nel senso che quello che di solito si chiede è il permesso di usare non solo l'immagine, ma l'espressione che si usa è l'immagine volto e voce, che sembra una filastrocca, però in realtà sono sempre cose di prassi legale, che vuol dire che non soltanto è il volto, ma è l'immagine in un senso più lato, ci sono state un sacco di sentenze su questo, alcune di quelle che si studiano sono quelle che fecero su Luscio Dalla che quando negli anni 70-80 iniziò ad essere molto famoso anche per questa immagine, un po' con la scopoletta questa cosa, lo sfruttarono spesso con dei soci a delle cose per cercare di capire la sua immagine che era nota, era caratterizzata anche un po' a fini economici, lì Luscio Prudenza chiarì in quelle occasioni lì come in altre il principio per cui dice l'immagine non è solo il volto, se una persona è talmente nota, è talmente riconoscibile che tu la riconosci dal profilo tipo Hitchcock, dalla da un semplice disegnino con la scuola, comunque quello è un concetto d'immagine molto più ampio e anche quello non lo puoi sfruttare come ti pare e piace, quindi nel dubbio le storie liberatorie si scrivono che mi dai volto, voce, immagine, mi faccio autorizzare a usare tutte e tre, poi devo sempre far capire per farci cosa, perché appunto non deve essere indiscriminato ma dovrei contestualizzare a dire che ci farò un documentario o più documentari, poi magari lo metto in forma più ampia, però normalmente si fa capire a chi dà quel permesso, a chi lo dai per farci cosa, questo perché facendolo rende valido quel consenso, altrimenti è un consenso indeterminato e un domani ti potresti trovare che quello stesso soggetto si alza su e ti dice beh io però te l'ho dato e non era specificato che ce n'era fatto un documentario che andava in televisione, siccome l'immagine della persona, tutto quello che attiene ai suoi condati personali è protetto da diritti fondamentali, c'è un fondamento costituzionale, è una materia molto delicata e molto tutelata, si rischia che lui abbia una possibilità di revoca se tu non gli hai spiegato esattamente per cosa lo andavi ad utilizzare, quindi questi liberatori, questi permessi devono essere abbastanza precisi nell'andare a raccontargli cosa fai, semmai anche ampliandolo, cioè gli scrivi io farò un documentario, oppure eventualmente più documentari per mandarli non solo in televisione ma in tutti i canali di sfruttamento, però gliel'hai scritto, cioè lui firmando ha letto che tu potenzialmente quella roba la fanno in mezzo mondo, su internet o dove capita capita insomma, e quindi in questo modo blindi questo consenso nei limiti del possibile, anche in quel caso però rimane sempre quel limite, cioè uno ti ha dato la liberatoria a metterlo in un certo documentario, gli dai il titolo provvisorio, gli dici che lo puoi sfruttare dappertutto, dopodiché però tu, che puoi cambiare il mondo da come poi lo vai a montare e cosa vai a dire, lo metti in un modo che lo ridicolizzi, lo critichi in modo unilaterale eccetera eccetera, lui di nuovo in quel caso ti può comunque venire a piantare una grana dicendo che tu hai utilizzato la sua immagine per ledere il suo onore e la sua reputazione, quindi hai preso il diritto però rimane sempre quel limite di tutela della persona, che grosso modo è lo stesso, dicevamo, della materia della diffamazione, quindi in questo gruppo di situazioni la prima è come gestire le immagini delle persone, l'altra su cui ci volevamo… è una domanda sull'immagine… è pure due… prego… microfono… forse è una parte limitata del problema, però quando si hanno per esempio delle persone da intervistare straniere che magari non capiscono, stanno imparando magari o non capiscono bene l'italiano e il documento da firmare, che loro ovviamente devono firmare perché ci deve essere una scrittura e si dà da firmare in italiano, si può fare una traduzione, cioè qual è la prassi più o meno? che fai nelle liberatorie a doppio testo… ok… di solito si usa italiano e inglese, cioè di solito dove non arriva l'italiano l'inglese arriva sempre, è raro che fai le liberatorie in altre lingue insomma… arabo? eh… in arabo esatto… cioè… non sono lingue talmente… giapponese, arabo a volte non ti va e le fai tradurre… le fai tradurre… un po' è una seccatura perché poi non sono di uso comune, quindi poi le devi rifare tradurre se devi dimostrare a qualcuno che ha quei diritti, spera che non ti chiedono le fai delle liberatorie… però qualunque lingua le fai, hanno valore legale, può diventare un problema… per cui non si andrà sul complicato, nel senso che a parte la lingua dipende da dove sta l'arabo che intervisti… se l'arabo sta in Italia tu la puoi fare in arabo ma la regola la legge italiana… si… se la liberatoria te la fai firmare da un'altra parte del mondo… in Libia… esatto… indipendentemente, in teoria quello se ha un libico e te la dai in Libia, se non ci scrivi che lui accetta che tutti i vostri apporti li regoli con la legge italiana, domani che ti vuole piantare una grana, in teoria lo fa in base alla legge del posto… però insomma di solito una liberatoria ci mette delle cose tipo internazionali, almeno l'Abbocato ci mette le regole in base alla legge italiana, c'è la legge della produzione di solito metti, no? perché cerca di accentrare lì, perché quella conosce, cerca di fare le cose a norma e regola da arte secondo le regole che lui conosce… fai nei limiti del possibile quello che… ad esempio una liberatoria video, mentre praticamente stai facendo un'intervista… che te la dice a voce a video… eh, che mi dice qualcosa davanti alla macchina… quello è meglio che niente… eh… quanto di tutela… perché per il motivo di prima, cioè la persona umana è quanto di più importante esista al mondo, no? cioè per l'ordinamento, ha i suoi diritti, questi di cui parliamo qui sono diritti fondamentali, costituzionali, questo vuol dire che sei più tutelati, quindi è molto semplice che se tu hai un problema viene riconosciuto il suo diritto a intanto invocare quel limite massimo per cui anche se t'ha autorizzato poi la stai pregiudicando, no? eh… e poi eventualmente anche a revocartelo se il suo consenso non è stato pienamente informato e consapevole… allora se tu uno a video… non hai scritto uno specifico… ti va di fare l'intervista… sì sì… cioè è difficile che riesci poi a far risultare e dimostrare che sapeva che lo mettevi in un documentario, che aveva un certo titolo, che andava in onda, in mezzo mondo, in tutti i canali di sfruttamento… però se uno dice concedo i diritti per usare tutto quello che… però insomma… ci metti tre minuti e a sto punto gli dai un foglio… proprio… cioè una frase così non… sì… e comunque capisci da te che la liberatoria… cioè se io devo poi… per esempio il documentario lo consegno al canale… magari mi chiedi… mi fa vedere il liberatorio… e te mi devi fare vedere tutti i nastri con questi che… ma è un po' meno comodo… mi fa vedere in arabo il traduttore… esatto… c'è il traduttore… però insomma sicuramente è una forma di documentazione… è una prova… la legge… la prima prova che ha è il documento scritto… ma proprio nel senso che il documento scritto è scrittura privata… viene chiamata… se tu c'hai una scrittura privata… facendo un consenso documentato per il scritto… è la forma principe che puoi avere in qualunque legge… diciamo… la prima… tutte le altre cose sono gradate… capisciare che tu in teoria… oggi con oggi… se sei uno bravo… potresti pure truccare quello che si sente in audio… quindi dovresti vedere bene che sta in sync quello che ti dice… cioè… nel senso… quando hai fatto fare una liberatoria scritta… sei molto più… tranquillo… magari… e poi… nella quale lo identifichi bene… cioè l'idea… hai detto che poi la guardiamo una liberatoria… ma la guardiamo… io non… insomma… sempre per gestire un po' di tempi… non l'ho portato alla liberatoria… vi ho più o meno detto che deve avere dentro… scusate… molti di noi… toccheranno un argomento di migrazione… bisogna aver capito che è chiaro questa cosa… nel senso… alcuni di noi… toccheranno un argomento di migrazione… sì… quindi basta mettere nome e cognome e una firma… magari questa persona non è neanche cittadina italiana… la buona… un cittadino italiano… allora… di solito… nome e cognome e firma più o meno leggibile… esatto… la firma… tieni conto che la firma… per legge non esiste… non significa niente firma… esiste la sottoscrizione… la legge parla di sottoscrizione… vuol dire che uno con la sua calligresia scrive leggibile nome e cognome… non è la firma… quei scarabocchi così… se li fai dal notaio… non ti dice rifarlo perché questo non vale niente… sembra un notaio… quindi devi far scrivere nome e cognome leggibile… prendi un documento… lo fotocopi… raccogli i dati… e lo identifichi… questo puoi fare… ok… più di questo… cioè… cambio di mestiere perché ti assuma veramente dal notaio… però va benissimo… è perfetto… l'hai identificato… sai chi hai davanti… vedi se è un minore… poi sai altri problemi… non è cittadino… ma è che bollino… sicuramente… è apolide… però l'hai identificato… l'hai identificato… l'hai identificato… è comunque un consenso che lui ti ha dato… al di là di tante condizioni… non so… detenuto… gli devo chiedere documenti… cioè mi stai dicendo… gli devo chiedere un documento… possibilmente sì… cioè dovresti… il lavoro andrebbe fatto così… cioè se puoi… oggi poi con telefonini… insomma è poi abbastanza semplice… prendi un documento… hai preso… se non altro raccogli i dati… se non altro raccogli i dati… però… se no ti scrivi un qualunque nome… cioè può scrivere… un nome inventato… sai poi… cioè più della legge è pure il buonsenso… nel senso… tu stai a fare interviste a gente che non la conosce nessuno… in un paese… remoto… vai non… non dall'altro capo del mondo… cioè ma chi se ne accorgerà mai… no… tutti lo sanno… nel senso… nelle produzioni vai… c'è anche essere un po'… eh… però se tu magari sei in Italia… si intervista una… una persona che dichiara di essere stata… che ne so… picchiata dalla polizia… così… colà… capisci… eh… la rendi non identificabile… a quel punto non c'è un problema di uso dell'immagine… il volto non si vede… eh… non c'è bene nessuna liberatoria… ok… nel senso… lì bypassi un po' in questo modo il problema… lì stai facendo un lavoro un po' più di… diciamo… inchiesta… giornalistico… se vuole l'anonimato… lei dà l'anonimato… a quel punto… non ti potrà mai dire che… lei di la sua immagine… sei fatto bene il tuo mestiere… perché non si capisce qual è… ehm… e… dicevamo… del… quindi del ritratto… però l'anonimato… però… c'è anche la parola voce nella liberatoria… camuffa la voce… beh… dovresti camuffa… diciamo… la… la voce… se identifica la persona… ehm… cioè… dipende un po' come dalla gestione… tu puoi benissimo… o… ti puoi far dare una liberatoria… dopodiché lei dice… però devi mantenere l'anonimato… a quel punto ti sei fatto autorizzare tutto… ma… riguardo la voce… riguardo l'immagine… riguardo il volto… poi però ti dice… non devo essere riconoscibile a video… oppure ti dice… non deve essere riconoscibile la voce… allora a quel punto te la tieni internamente… è una bella responsabilità che te la tieni internamente… se la metti in un cassetto da una parte… e… beh… non la fai… non la fai riconoscere… quindi tu sei a posto… doppiamente… in realtà però in un caso del genere… se poi tu la rendi… che non si vede… e la voce la camuffi… in effetti se non hai la liberatoria… non è che ti… cambia la vita… diventa un problema più che altro di… come dire… di tua affidabilità… di tipo deontologico… se sta in realtà… camuffando le cose… però sai… io faccio vedere uno… che non… non si capisce chi è… con una voce camuffata… dovrebbe essere pure un attore… cioè… chi è che potrebbe… venirti contro a dire… eh… stai pregiudicando la mia immagine… non si capisce chi è… quindi… non è più un problema di questo tipo… il problema semmai appunto è di credibilità… cioè se ti denunciano… per esempio un altro dicendo… ecco… tu intervisti uno… che parla male di una realtà… di inquinamento… no… di una zona dove c'è una certa azienda… in realtà quello è un attore… lo stai camuffando te… e l'azienda dovrebbe di… cioè… da tutto come ha impostato l'opera… mi stai diffamando… le tue fonti dove stanno… e c'è tutta gente anonima… non si capisce chi è… lì… poi diventa un problema che… poi è una sfera diversa… cioè se sei un giornalista… è anche un problema di… codici di condotta… se l'hai rispettati… come hai lavorato… come non hai lavorato… si trannutta una serie di cose… però diventa più una sfera di… diciamo di… di tipo penale… facilmente… cioè non stiamo più parlando di diritti di… immagine… di uno che ti accepisce che… non c'è la liberatoria firmata… è possibile fare una domanda? si… su questo… si… sempre inerente su questo… allora… io di prassi faccio firmare sempre liberatorie… a uso gratuito di immagine… è questo… comunque con questa prassi… quindi codice fiscale… o fotocopia di documento… pure il codice fiscale… grazie… in genere… si perché… però… ecco… se… come è successo… un documentario… insomma… un elaborato… vinca un premio in denaro… per esempio… ovviamente… cioè… dal punto di vista etico… uno può dire… cioè… è un peccato che questa persona… non venga retribuita… però da un punto di vista legale… volevo capire… questa persona comunque… non va… no… se è veramente un documentario… veramente ti ha concesso… un qualcosa che è… come dire… realmente la sua vita… cioè… non è diventata una cosa mista… dove ha fatto… cioè… lui… allora… diciamo così… lui… se non è famoso… la sua immagine… non è un'immagine che ha un valore di mercato… quindi… perché… perché i soldi… in teoria te li potrebbe chiedere… se è uno famoso… dice… hai usato la mia immagine… il documentario è diventato famoso… e quindi… la mia immagine viene sfruttata di più… quindi… uno che fa… per esempio… l'attore… ha un diritto… per quanto viene esposto a video… ad essere retribuito… se te l'ha data gratis… e… sei andata a vincere dei premi… cioè… è salita molto la posta… potrebbe provare a impugnarti… dicendo… lì era gratis… però… io… sinceramente non capita… perché sarebbe proprio un caso da… da… e invece… in questo caso… persone in secondo piano… che vengono riprese… e… non hanno liberatoria… sullo sfondo… sì… cioè… comunque… sì… secondo o terzo piano… comunque sullo sfondo… che siano comunque riconoscibili… non… ma… dipende da dove stavano… se stai in un luogo pubblico… che stanno sullo sfondo… non c'è problema… se fanno un documentario… non hanno praticamente niente in mano… per scocciarti… beh… una cosa che fai… che comunque è un contesto… cioè… informativo… erano… per strada… presumibilmente vedevano… che stavi riprendendo un qualcosa… insomma… non dovrebbero… non hanno… insomma… non hanno grandi… modo… per darti fastidio… eh… però… hai detto un'altra cosa… scusa… ho perso il filo… c'è un altro punto… mi era venuto in mente… ehm… prego… la vincita… cioè… discorso economico… brava… ero partito lì… esatto… diciamo che… uno che te la dà gratis… te lo dovrebbe chiedere… in teoria… perché è famoso… oppure… se… in realtà… quello che tu sei andato a fare… è una roba che è un po' sconfinato… nella finzione… cioè… lì si potrebbe provare… dipende quanto gliela sa costruire un avvocato… e com'è il contesto… se c'è un po' di polpa… l'entoria dice… senti… io in realtà… non è tanto un documentario… perché a me tu mi hai filmato… per giorni di seguito… mai bloccato… non sono andato al lavoro… mi davi addirittura il copione… cosa fa… che azioni fare… eccetera… lì potrebbe pure provare a dirti che… eh… questo diciamo… dicendo che tu comunque… hai utilizzato una sua prestazione… artistica… ma insomma… è abbastanza rampicarsi… sugli specchi… però in teoria… quella potrebbe essere un po' la via… eh… oppure… c'è una clausola… diciamo… residuale… che esiste nella legge… che un po' è il principio… lo chiamo dell'ingiustificato arricchimento… no… in pratica… quando un'appoglio… non sa più a che attaccarsi… quella è proprio la fine… cioè ti arricchisci… ingiustificatamente… dalla mia immagine… del mio tempo… al mio lavoro… te hai guadagnato 100 mila euro… non ho mai dato nulla… te hai guadagnato 100 mila euro… dammene… 500… però… non… non c'è… ti dico… non ho viste… ma questa… non mi è mai capitata… a parte che passano 10 anni… quindi si arriva nella causa del tempo… sì… a parte che passano 10 anni… ma non… ripeto… veramente… non ho viste tutte… questa non… non mi sembra una roba credibile… parliamo degli archivi… allora… archivi sono un altro… proprio… siamo sempre nell'ABC… del buon documentarista… sono importantissimi rapporti con gli archivi… saperli usare… a parte dal punto di vista di ricerca e di montaggio… che non sta a me dirvelo… però… dal punto di vista anche un po' contrattuale… capirci… ci hanno come importanza sempre di più… ma proprio come concetto di archivio in sé… per me il concetto archivio è anche più ampio di quello che magari mi viene in mente… dell'archivio… della cineteca… della video… in realtà… archivio… a livello legale… è qualunque… compilazione… si chiama… compilation le chiamano in inglese… cioè vuol dire che c'è una pila di materiali… una library di roba… che è messa lì… e comunque ha un qualche ordine… c'è uno che l'ha custodita… che la conserva… e che… almeno si pone rispetto agli altri… come un titolare di questo archivio… quindi c'è i materiali in mano… questo è più o meno un archivio… perché… diciamo… vi dico questo… perché in pratica noi… di fatto oggi… è un mondo dove il problema della facilità di riprodurre… l'abbiamo talmente superato… che abbiamo il problema della saturazione… quindi… diciamo… ormai… la forza… si concentra molto… in chi riesce a mettere le mani su massa di dati… che poi sono tutti digitali… no… quindi… diciamo… questo alla fine… a livello di mercato… che vuol dire che io sempre di più mi confronto con questo problema degli archivi… che è un problema… prima ancora… che… diciamo… di gestione dei diritti… dei filmati… che c'ho… delle foto che c'hanno… eccetera… è un problema proprio proprietario… l'ho accennato anche all'inizio… cioè… prima ancora di capire se io… il posto dove vado a riprendere il quadro è ancora scaduto in diritti… il film è ancora scaduto in diritti… se quel quadro… quel film sta in mano a qualcuno… io c'ho un problema… qualcuno mi deve… risponde al telefono… risponde alle mail… mi deve far vedere i materiali… me li deve dare… e quindi è un problema proprio di proprietà… di possesso… che va un po' scardinato… e… ad oggi… diciamo… ormai è un problema che si è… si è posto in modo importante… però… non è un problema su cui esiste ormai un principio generale… universale… per cui… io ho diritto… ad accedere a un materiale che c'ha chiunque in mano… non è così… cioè… nel senso del mondo è ancora… tale che sì… se un archivio pubblico ha un dovere… perché… si tiene a averlo perché è pubblico… e deve rispondere in certi orari… eccetera… però in teoria… se hai un archivio privato… se hai scritto da nessuna parte… dobbiamo anche ignorarmi… io ho dei materiali che gli si rovinano in mano… non avrò mai modo di arrivarci… per questo tipo di problema… diciamo… non siamo ancora alla fase delle soluzioni strutturate… ma siamo ancora alla fase di progetti… che cercano sempre di più di inventariare… a livello europeo… a livello internazionale… il digitale un po' inizia a facilitare questa roba… e sta un po' scardinando… però non è che c'è ancora qualcosa di super codificato… dicevo che… appunto il digitale in questo un po' fa gioco… perché… perché erode… la possibilità… per qualcuno… di crearsi il fortino… a tenersi la roba dentro… non farla vedere a nessuno… perché se niente niente… scappa una copia digitale… va finì in internet… se la trova in giro per tutto il mondo… quindi… o… si mette… in modo corretto sul mercato… sulla sua copia… che in maggiore definizione… in maggiore qualità… inizia a fare… cioè… viene un po' forzato… a muoversi… perché se no… nel frattempo… tempo che lui scopre da averla… se la trova in giro per tutto il mondo… ehm… questo è un po'… cioè… il racconto di quello che sta… che sta avvenendo… ehm… il problema… torno a insistere… è… prima di tutto… quindi… da capire… in questo contesto qui… di proprietà… di… di possesso… di prassi di accesso… e di principi di accesso… che… piano piano… si stanno un po' codificando… tutto… appunto… più nel pubblico… ehm… perché… questi materiali che stanno… negli archivi… di vario tipo… in effetti… neanche sono sottoposti a diritti… cioè quello che viene spesso… per materiali un po' risalenti… questi sono film che… non sono più soggetti a diritti… nessuno… i vecchi filmati… eh… oppure addirittura… magari lo sono… ma è talmente incerto lo stato… che… nessuno li può rivendicare… cosiddette opere orfane… no… sono dei casi in cui… è talmente complicata… l'analisi dei diritti… e tu pure se ti controlli… il pubblico registro… eh… i titoli… materiali deteriorati… non riesci a risalire a tutti… quindi non esiste uno… che ti può firmare… la liberatoria… l'utilizzo… ehm… quindi… il tema del capire… in mano a chi vanno… e che ci siano poi delle regole… affinché… prima ancora di capire… se ci sono i diritti… ti sia dato l'accesso… è… proprio un tema… cruciale… di questa epoca… ehm… perché a volte… quello che fanno… poi… e benvenendo la pratica… il… ahimè… qualche archivio pubblico… fa così… è che… questi… quando poi hanno i materiali in mano… anche se il materiale… non so… i diritti scaduti… per il fatto che lo hanno in mano… dettano delle regole… come se fossero i titolari dei diritti… ehm… quindi… ho un materiale in pubblico dominio… pubblico dominio… vuol dire che… sono scaduti… i diritti di copyright… vuol dire che… chiunque potrebbe… riprodurlo… metterselo nel film… farci quello che vuole… però… guarda un po', io non riesco a trovare… una copia… in decente… qualità… di quel materiale… la vado a ricercare… nell'archivio… l'archivio… mi impone… ho superato il primo problema… quindi per fortuna… è un archivo che io posso accedere… che mi dice… bene… se siamo qui… ce l'abbiamo… te lo diamo… per dartelo… ti dice… bene… queste sono le nostre regole… prenderlo e lasciare… punto… e questo… molto archivi importanti… di… di canali… pubblici… eccetera… ti propongo una licenza… che uno la legge… diciamo… rapidamente… e pensa… vabbè… è una licenza normale… è una liberatoria… perché questo ha i diritti… su quello che mi sta dando… in realtà… se te la leggi bene… tra le righe… tra le righe… capisci bene… lui quello che ti racconta… in queste pagine e pagine… dice… io ho questo oggetto… materiale… compri dall'Italia… per esempio… compri solo i diritti d'Italia… questa cosa qui… è un modo di fare… che… a rigore… in base alle regole… del diritto d'autore… è abusivo… cioè è legittimo… nel senso… perché in teoria… se tu hai il diritto d'autore… c'è il diritto di precludere agli altri… di farsi le copie… e dici… te lo do per l'Italia… te lo do per l'Europa… ma se è un materiale… in pubblico dominio… che non c'ha più diritti… pubblico dominio… è nato… perché? perché se ritiene giusto… che dopo un tot di anni… la roba sia libera… se la copia… chi gli pare… no? quindi… è un bel… cioè è un grosso dibattito… intorno a tutto questo… perché… perché… ma tornando però… alla premessa… quindi da un lato… c'è… un po' un andare oltre… delle prassi pure… che sono criticate da tanti… però dall'altro… venendo l'altra faccia della medaglia… c'è… anche da considerare… che… e questo appunto… l'epoca in cui viviamo… in cui non c'è più il problema della riproduzione… ma di gestire tutto quello che si riproduce… che ce n'è talmente tanto… che la grandissima parte del… contenuti… diciamo… intellettuali… di vario tipo… che ci stanno… sono proprio… non inventariati… cioè la quantità di roba orfana… che non si sa neanche di chi è… e che chi ce l'ha… neanche è sicuro che ce l'ha… è tantissima… cioè… è più di quella che invece… è tracciabile… ed è chiaramente attribuibile… dicevo… per vedere l'altra faccia della medaglia… c'è anche da considerare… che in questo tipo di mondo… conservare… inventariare… stare lì a fare un lavoro di conservazione… e dare a chi gli serve… c'ha un costo… no? quindi alla fine… quel costo lo devo scaricare… in qualche modo… e… e quindi c'è un po' da equilibrare… queste due… queste due esigenze… diciamo che… forse… la… come dire… la… la strada potrebbe essere… una… una via di mezzo… nel senso che… in teoria… da un lato… bisognerebbe dare un accesso… diciamo appunto… libero a chiunque… secondo… sarebbe importante avere… un… principio come di par condition… cioè molte di quelli che sono gli studi… le… le linee guida che hanno elaborato… che ci si sta cercando di dare in molti contesti… nel… nel… a livello… insomma globale… sicuramente in Europa ci sono molte iniziative… ehm… e questo che almeno per la… almeno per gli archivi pubblici… c'è un principio di libera accessibilità… di regole comunque quali per tutti… ehm… dopodiché il fatto di… far pagare di più chi usa di più… sì… può anche andar bene… perché come equità può andar bene… però… non può essere esercitato… diciamo arbitrariamente… come… se… chi lo dà fosse veramente il proprietario… il produttore… che ha i diritti… i copyright… sul film… insomma… la situazione andrebbe un po' differenziata… e la pratica invece non è tanto… insomma… non è ancora così… perché non funziona così… ehm… quindi… nel… nel contestualizzare il discorso degli archivi… per andarsi a prendere un materiale archivo… quindi… fin qui… i problemi nell'ordine sono… c'è come dire… prima capire di chi è se c'è qualcuno… che siccome ce l'ha in mano… mi impone delle regole… copyright o non copyright… quello è un primo problema… se io trovo un materiale da un'altra parte… in realtà… questo problema lo bypasso… cioè… se… io c'ho… un… 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 un materiale… molto risalente… e qui con questo… anticipo… una… una domanda… che mi pare… è stata fatta… ma se no… spesso viene fatta… se io trovo lo stesso materiale che sta nell'archivio… e mi chiede 3.000 al minuto… lo trovo su internet… dice che faccio… allora… le storie sono due… uno… c'hai paura perché è un materiale talmente che… cioè… c'hai paura in assoluto… vabbè basta… guarda l'archivio e pagli… questa è un po' la prima… poi… se non c'hai paura in assoluto… ma vuoi prenderti un minuto di rischio… tu ti vedi quel materiale… lui gli dice… è un materiale che per esempio… l'archivio potrebbe avere veramente lui in proprietà… perché… facciamo gli esempi… non so… la luce… eccetera… ci possono essere contesti in cui veramente è il suo… o è solo un materiale che è conservato lì… ma magari c'è un'altra copia da un'altra parte… e quindi… questa prova che la proprietà è sua… non riuscirebbe mai a darla… perché può essere sua… può essere di quell'altro… eccetera… eccetera… cioè veramente questo… c'hai diritti… te lo controlli… in quei casi lì… in realtà… se sei uno che si vuole prendere un po' di rischio… potresti rivendicare il fatto che è in pubblico dominio… quindi dici… perché ti devo spiegare da chi l'ho preso… che hai i diritti… sì… sul supporto tuo… dimostrami che non esiste nessun altro… io te ne indico uno o due… sta su internet… si può prendere chiunque… cioè… questo è un po' un tipo di… atteggiamento un po' più… come dire… spavaldo che pure a volte si può prendere… poi… al di là di questo comunque… anche se il materiale è… coperto da diritti… comunque in certi casi si può usare… liberamente… di archivio, non di archivio… di chiunque insomma… quale che sia il materiale… anche se c'è un titolare che ha dei diritti sopra… ci sono dei casi in cui si può usare… in particolare il caso più importante… è quello del diritto di critica… che più o meno negli Stati Uniti ha… un parallelo molto famoso… ma molto più ampio… molto più importante… ci si fa molte più cose… che è quello che viene chiamato il fair use… questo è una cosa… estremamente importante per chi fa il documentario impararsi… non è un passepartout… cioè non è un jolly… ci si fa tutto… però in certi casi da un bello strumento in mano… per lavorare… è una regola che… esiste in ogni Stato… in termini un pochino diversi… quindi non è… è facilissimo… perché come dicevo… anche a livello europeo oggi… c'è molta uniformazione… però purtroppo… c'è molto su quelli che sono i diritti… che hanno i titolari… di riprodurre… di fare questo… quindi di vietare agli altri… è come tutelarsi l'opera… però su come… sulle eccezioni… cioè su quando si può liberamente usare… nell'Unione Europea… a livello normativo… purtroppo… hanno avuto la brillante idea… sempre problemi di lobby… eccetera… di lasciarlo molto agli Stati… un po' alle tradizioni locali… quindi tu c'è una specie di… di zig zag… dove in uno Stato puoi fare un po' più una cosa… in uno Stato puoi fare un po' più un'altra… classico esempio… in Francia c'hanno una norma sulle parodie… fortissima… perché c'hanno grande tradizione di vignette… diciamo di… di opere parodistiche in generale… se fai una parodia in Francia… tu sai che puoi prendere veramente quello che ti pare… sei molto… è difficilissimo… chiunque ti venga ad attaccare… in Italia non ce l'abbiamo… non c'è la norma che dice… io se faccio parodia… copio quello che mi pare… dall'opera di chi mi pare… non c'è… te lo devi un po' più costruire… quindi è un po' frammentato come contesto… per avere le coordinate generali… sono… da un lato… e questo… fare un po' un parallelo… Europa-USA… quello che c'è negli Stati Uniti… ad oggi parecchio più ampio di com'è in Europa… il fair use… non so se ne avete magari a volte un po' sentito parlare… è un concetto molto ampio… negli ultimi anni… tenete conto… in particolare negli ultimi 7-8 anni… dal 2006… direi… 2006-7… in poi… c'è stata una grande campagna… che è partita dagli Stati Uniti… l'abbiamo… diciamo… in parte in Italia… rilanciata tanto… con l'associazione dei documentaristi… insieme alle altre europee… tentando di promuoverlo molto… in particolare in America… quello che è successo è che hanno… coalizzandosi molto bene fra le associazioni di categoria di filmmaker… trovando supporter anche fra aziende importanti… che quindi hanno sponsorizzato studi di università… hanno fatto tutto un grandissimo lavoro per anni… per alcuni anni… per dimostrare come in base a questa norma… si potessero fare una serie di usi gratuiti nei documentari… che dovevano essere ritenuti legittimi… cioè ci hanno messo a lavorare proprio professoroni… hanno fatto cause pilota… ci sono state tutta una serie di sentenze vinte… alcune molto famose… tipo Yoko Ono… che pretendeva che gli pagassero… le dieci note… di dieci canzoni dei Beatles… messe in un certo documentario… ha perso in due gradi… era finita su tutti i giornali… perché sono riusciti a dimostrare… che quello è un uso… fatto per fare una critica… su come era la musica dei Beatles… cioè è una cosa enorme… parliamo della musica… che c'è il valore… a livello globale… più alto… da sempre… quella che ha fatto estendere… la durata dei diritti… di tutte le opere… a Bruxelles… per intenderci… quindi… lì… hanno una norma più ampia… però è importante interpretarla… negli ultimi anni… sono riusciti a far passare… a livello di giurisprudenza… poi di sentire diffuso… cioè ormai si sa abbastanza… anche nell'industria… che certi tipi di usi… sono legittimi… quindi che vuol dire… che se tu fai un documentario… con archivi… oppure con… pezzetti di opere degli altri… è facile che dall'altra parte… anche se hai la corporation più agguerrita… che dieci anni fa… ti arrivano… 70 diffide… di 70 avvocati diversi… adesso ha capito… che se tu stai in quei confini… quindi veramente stai prendendo dei pezzetti… perché ti serve fare una critica… non so… della Mutica Beatles… dei quadri del pittore famoso… no… ho fatto un esempio… c'è un problema suo… ma… di un certo regista… anche se molto famoso… non ti allarghi… non fai veramente concorrenza all'opera… lo usi con correttezza… lo attribuisci… eccidi bene… sanno… che ormai… per i giudici lo puoi fare… quindi… non ti toccano… ed è una cosa gigante… c'è stata una vittoria… abbastanza… insomma… epocale… e… molto importante… in Europa… in Europa… stiamo un pochino indietro… perché in realtà… stavamo… in un certo senso… non voglio dire avanti… ma almeno quasi in pari… perché di base c'avevamo quest'articolo… che voi riportate in inglese… che viene dalla Convenzione di Berna… e… diciamo… che… che all'origine… era abbastanza intelligentemente scritto… poi… sotto… semplifico il racconto… però sotto pressioni varie… quando poi riformano le direttive… eccetera… l'hanno trasformato… in… in questa… in questa… in questa versione qui… che non è che fa capire tanto bene le cose… e poi soprattutto… tramite questa direttiva del 2001… come vi dicevo prima… di fatto che è successo… hanno sbolognato agli stati… il compito di dire… quando sono… questi utilizzi gratuiti… ogni stato… se n'è stato un po' su… lui sulle sue eccezioni… in morale… tu fai un film… se poi deve circolare… in più paesi… che difficilmente riesce ad appoggiarti… a queste regole… perché… se io ho un paese in un modo… un paese in un altro… il film è uno… ce ne posso fare… sei versioni… su come cito la roba dentro… se operi in un ambito… solamente italiano… c'hai… una norma… anzi… un paio di norme simili… sempre in questo ambito… che sono… una che riguarda i discorsi… di interesse politico-amministrativo… cioè la libera utilizzabilità… questa è proprio la norma… per la cronaca… il classico diritto di cronaca italiano… quello su cui campano tutti i dg… e chi fa reportage giornalistico… nelle riviste e nei giornali… anche radio televisivo tematici… se tu fai un documentario… prettamente per l'utilizzo televisivo… e metti dentro discorsi… che tizio… che caio… comunque su cose di rilevanza politica… non necessariamente fatti da politici… una cosa di interesse politico… quindi dichiarazioni di chi che sia… per esempio… su una nuova normativa che deve passare… sul disastro della concorso… su quello che ti va… prendi… metti dentro… non ti possono niente di niente… estratti di conferenze aperte al pubblico… quindi se vai lì… riprendi… non so… eventi di dibattito pubblico… tutti questi… li puoi prendere… inserire… purché attribuisci… da dove l'hai presi… eccetera… quindi anche se li prendi a tua volta… da… diciamo… Tg… di nuovo… è un problema del materiale… cioè… spesso devi andare a prendere il materiale… con una definizione decente… e quindi… magari la prendi… dalle teche… lì… della… della tv… perché sennò… rischi che ti vengano a… comunque… a scocciare… però… riguardo a quello che è la… ciò che… ciò che viene ripreso… quindi l'avvenimento… non ci sono diritti di qualcuno la considerare… cioè… nessuno può considerarlo suo esclusivo… e questo è… diciamo… l'ambito… prettamente… la cronaca… l'altra norma… secondo me… ancora più importante… perché riguarda non solo… il documentario puramente di cronaca… che… sinceramente… tranne… quelli che fai… e che vanno… in onda… in televisione… in modo reportacistico… su cose abbastanza attualità… insomma… facilmente ne vai fuori… perché fai più… un approfondimento… non una cronaca… l'altra norma… dove ti puoi attaccare… è questa qui… l'articolo 70… ehm… articolo 70… ehm… che… diciamo… in forma… un pochino più striminzita… ahimè… però più o meno dice quello che… dice quella norma… del fair use americano… con cui si fa molte più cose… ci rientra pure la cattura incidentale… che diceva lui… cioè… la musica diegetica… per dire… cioè… ci fai un'infinità di cose in più… però comunque in Italia… abbiamo questa norma… che è una norma… che dice che tu comunque… puoi usare brani… o parti di opere altrui… ehm… liberamente… se lo fai per uso… di critica… o di discussione… nei limiti giustificati… da tali fini… e purché… non fai concorrenza… a chi è il titolare… la potevano scrivere molto meglio… cioè… non è che sia… ci devi faticare… per lavorare… su questa roba qui… nel senso che se tu ti metti in testa… devi fare un documentario… basandoli molto sul 70… o se uno pensa a fare parecchie esperienze… se no appunto… l'avvocato ti dà un po' di consigli… devi fare un ragionamento costi e benefici… cioè… usi tanto materiale… se lo devi pagare… ti costa tanto… quindi allora… a quel punto vale la pena… che ti metti due mesi… a lavorarci sopra… e lo monti in un modo… se il contesto te lo consente… che… per misura… per il contesto in cui lo metti… per chi è il titolare… eccetera… vai a capire… che comunque… su 70… c'è un buon appiglio… e quindi alla fine… o… non gli dai assolutamente nulla… oppure… fai… quello che… personalmente… ho fatto un'infinità di… cioè… vado sul personale… ma per raccontarvi… insomma… è tantissimo il mio lavoro… per i documentari… spesso è questo… su quelli d'archivio… ti metti lì… cioè… hai 20 fonti di… fonti d'archivio… ti metti lì… titolari… fai l'analisi… cosa sta sotto diritti… cosa non sta sotto diritti… dove stanno i materiali… dove non stanno i materiali… chi ce l'ha in mano… chi non ce l'ha in mano… quindi… uno lo conosci… un altro ce parli… poi… quando si tratta un po' di smuoverli… tu magari… sempre se il contesto te lo consente… cioè… se puoi argomentare… che ne prendi veramente poco… che non puoi non usarlo… perché stai svolgendo un'argomentazione… gli vai sotto… gli dici… guarda… o ti accontente di questo… o se no io uso gratis uguale… che dobbiamo fare… e quindi lì… piano piano… tagli… 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 e riesci a fare… cioè… parecchio… insomma… se ti si muove… ci fai abbastanza… per esempio… un caso… per sintetizzare… perché… vi ho fatto un po' il paragone… come… cioè… la situazione… Stati Uniti… e… Europa… e quindi Italia… che ne fa parte… no… un caso divertente… per capire… a che punto stiamo… in Italia… quest'articolo qui… allora… in America… dieci anni fa… non c'era… non c'era… non c'era un sentire diffuso… sul fatto che nel documentario… potessi liberamente usare roba… avevano una norma… molto più potente… ma loro stessi… nei tribunali… non l'azionavano mai… è stato… grazie al merito di tutta una serie di… anche giuristi… per di Lessig… non so se l'avete sentito… e poi è diventato una specie di guru… della comunicazione… seppure disinteressato… da sti problemi… però… è stato tutto un momento di opinione enorme… e ormai è acquisito… in Europa un pochino… un po' più in piccolo… è stato fatto un po' quello… sempre tra le mie associazioni… oggi sono io… domani sei te… cioè piano piano… è un po' passato anche qua… tenete conto che in Italia… sta norma… che sta nel codice… cioè nella legge autore… da oltre 50 anni… c'erano avvocati… che non sapevano che c'era… cioè a me mi capitano… non perché so bravo io… magari seguivo i documentaristi… l'ho scoperta… mi… c'è… l'associazione… anni fa… ma nessuno veniva in mente… di andare da un RAI… e di… io uso gratis i materiali tuoi… perché ti facevano nero… e… non controbattevi… perché non credevi… diciamo adesso… pian pianino… sempre… con più moderazione… perché la norma non lo consente… però… quel gioco lì… di negoziarci… magari dicendogli… che se no… sta norma… ti consentirebbe anche di far di più… e… si riesce a fare… per esempio… un caso divertente… scusate l'inciso… ehm… tra l'altro… voi avete avuto qui Gioia Marchetti… che penso… che già vi ha parlato… no… deve arrivare… va bene… forse mi pare che lei faceva la producer su quello… per esempio… un caso divertente… che ho seguito un paio d'anni fa… che è un po' emblematico… è stato di un documentario… che ha fatto questa società… che ha appunto aiutato… per questi problemi degli archivi… che si chiama… Comic Books Go to War… che non so se l'avete sentito… bello… ha venduto pure parecchio… prende e parla di tutti… i comici… cioè tutti… i fumetti… d'inchiesta… che si sono molto diffusi negli ultimi anni… anche con dei disegnatori importantissimi… e quindi faceva tutta un'analisi… di come il fumetto… da genere… per così dire… povero… a livello culturale… e un po' pop… cioè… dai Capitani America in poi… da tuttura anche propagandistico… in passato… ultimamente diventava anche un genere… tra virgolette… impegnato… per fare un documentario del genere… di un'ora televisiva… dentro c'era… una quantità… di repertorio… di roba… di Marvel… di questi… e se tu la pagavi… a prezzi licenza… cioè… dovevi… andare fallito… no… quindi ovviamente… un caso del genere… ti metti… certosinamente… e cerchi… insomma… la prudenza poi… non è mai troppa… comunque… con gente del genere… è difficile… cioè… se puoi… eviti sempre… ti dirgli… boh… manco te lo chiedo… tanto c'ho il feriuso… perché insomma… già solo… se quello… ti da un intralcio… e tu stai per bene… eh… è meglio affrontarli prima… quindi ti metti lì… gli iscrivi… e scrivi uno… all'altro… all'altro… dice… uso questa clip… la metto così… non te la metto… non ti metto… stil… non ti metto… insomma… fotogrammi… sui titoli… e nei teaser… quindi non ti sfrutto… come veicolo pubblicitario… ti metto solo dentro… lo speaker farà notare proprio… che ti metto… perché sei uno di quei casi importanti… che erano il supereroe patriottico americano… cioè… gli dico… guarda… io ho un contesto di critica… inattaccabile… quindi… o me lo dà gratis… oppure… ti do sto rimborso… o se no… li richiamo… assolutamente perdi… e alla fine questi… gente tipo Marvel… multinazionali… poiché… negli Stati Uniti… sono… dal lato più arciglini… ma dall'altro… più articolati… cioè… sono andati più avanti… dicevano… va bene… in Italia… magari trovi… la… non so come dire… la… un po' perché la norma è meno… meno diffusa… un po' perché magari… l'interlocutore è meno erudito… e magari più ottusamente… di continuare a negare… molta più roba… però non vuol dire… che non si possa… che non si possa far nulla… cioè… i limiti sono quelli… mh… non… non c'è stato tutto questo… contenzioso… però io devo dire… negli ultimi anni… tutto sommato… ne ho visti di… eh… dei documentari archivi parecchi… e… è un po' questo gioco di comunque… dove… dove… dove puoi… convincerli che… non c'hanno da andarti a chiedere soldi… A perché non ce l'hai… B perché tanto lo usi pochissimo… C perché il contesto è quello… poi alla fine magari riesci a ottenere un po' di cose… ehm… sempre che ti rispondono… quello rimane un problema pratico… da… poi comunque da… da gestire… ehm… dunque… io qui me l'ho messo come scaletta… una cosa… che ce ne avrei da… da raccontare… allora… le immagini sportive… si e no… le immagini sportive… poi è un problema… perché… c'è tutto un problema di diritti televisivi… per cui… ehm… cioè… siccome… vengono… diciamo… gli eventi sportivi avvengono in luoghi che tu non puoi definire pubblici… parte tutto da lì… sono stati privati… è tutto chiuso… ricintato e danno accesso… ai canali… che sono i primi che riprendono… cioè a chi fa le riprese… a fronte di un commercio di diritti… quindi tu… inevitabilmente… gli eventi sportivi… almeno quelli insomma di una certa importanza… stadi autodromi… vale autodromi per dire no… c'hai ehm… questo problema a monte… è che tu non puoi… non aver trovato… dei… materiali… che vengono da quella catena lì… dove lo stesso… canale… cioè il primo che riprende… è sottoposto a molti limiti… ehm… quindi… diciamo così… che in certi casi… pure lì… io ho avuto un… un caso ad esempio con Senna… no… la fondazione Hilton Senna… ci sono i canali che hanno molte immagini… documentario che doveva trattare dell'incidente di Senna… lì… diciamo… se ti limiti molto… ma proprio molto molto molto… ehm… al… per esempio… non so… la dinamica dell'incidente… no… e tu vuoi presentare… sempre quel discorso della critica… come la dinamica… cosa dice un esperto… cosa dice un altro… ci metti la grafica con uno schema… lì in quel caso in effetti potresti dire… io sto facendo veramente una critica… però che succede… che tu facilmente con lo sport… questo proprio andando alla pratica… non fai più tanto critica… però fai un po' anche illustrazione… cioè… lo sport è una roba… le scene… non so… i gol importanti nel calcio… un punto importante nel tennis… è una cosa che… palesemente abbellisce quello che tu fai… quindi… se sconfini troppo nella raccolta… cioè inizialmente… i più bei gol del calciatore… quello dice… si… ho capito che fai la discussione del calciatore… però… è lo stesso motivo per cui vende diritti… quindi… quel problema della concorrenza al titolare… ci caschi dentro… quindi… o vai su una cosa molto… di… 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 specifico… appunto… io sto facendo un documentario… sulla dinamica di un incidente famoso della Formula 1… non mi posso permettere di prendere tutti i filmati… me li riesco a trovare da qualche parte i materiali… e io secondo me… per andare a far vedere… anche proprio come l'hanno ripreso… da una certa scena non si vedeva… che lui ha sbattuto la testa prima… anziché dopo… lì ci può stare… cioè… quella è veramente una critica… su come… quell'opera filmato… mi… mi… mi presenta la realtà… in altri casi… non… non è molto… molto facile… giocarci… poi… ragionamento terra terra… che capirai benissimo… su tutte… tutti… fra tutti i fattori che devi considerare… pure il peso di chi c'hai dall'altra parte… e quanto vale quello che prendi… su questa roba qui… peggio non puoi cascare… cioè… stai proprio al… la Formula 1 è una cosa… proprio… è un terrenominato… ti fucilano… appena fai qualcosa… puoi chiedere una cosa al volo… siccome hai fatto… hai accennato all'Istituto Luce prima… eh… quindi mi sono… illuminato… e io sto… montando un documentario… fatto esclusivamente di filmati… degli anni 40… 50… queste robe qua… ce ne sono moltissimi… forse il 90% sono dell'Istituto Luce… e molti… sono stati presi dal sito internet… che… hanno l'archivio online loro praticamente… ma solo per visione… esatto… c'è… c'è scritto solo per visione… mh… però molti li abbiamo… scaricati ugualmente… tramite programmini… queste cose qua… sono in suoi casi che dicevo prima… devi vedere un po' che filma comunque… cioè non… 40-50… cioè i diritti ci stai ancora… eh… un attimo da… quindi che… che mi consiglia di… no… il fatto di aver presi da internet… non ti da nessun diritto… cioè nel senso… tanto più che l'hai presi da loro… cioè loro hanno dei disclaimer… quindi ti è vietato di prenderli per usi… che non siano la mera visione… poi ci dovete contattare… quindi comunque tu… nell'andare lì e scaricarli… è come se accettassi questo tipo di accordo con loro… e ti ci incastri facilmente sopra… e se stanno anche da… insomma da un'altra parte… in teoria… potrebbero loro… potrebbero loro… non riuscire a dimostrarlo… che tu l'hai presi da loro… ehm… insomma… non so… però c'è scritto sopra… se tu ti posso creare… l'istituto luce… sì… ma lì… gli spregi… poi lì sono della televisione… cioè sono andati in onda in tv… è normale che ci sia il marchetto… istituto luce… si… insomma dipende poi dove li metti… ma prima c'è… io ho letto l'articolo prima… ogni informazione… anche cinegiornale… ho letto cinegiornale… sì… eh ma dove li metti… cioè che ci fai… cioè tu puoi vantare un diritto di critica… di discussione del citato… sì sì… è un documentario… di montaggio… cioè… cioè… sono una sequenza di… di filmati… collegati… a un montaggio parallelo… eh… quindi concettualmente… uno… succede l'altro… eh… danno un senso compiuto… uno dopo l'altro… cioè… è l'invio di un messaggio… eh… tramite… una serie di filmati… montati… in maniera interlacciata… così non ti so dare una risposta… voglio vedere meglio… un po' poi nel merito… che cosa prendi… e che cosa racconti… per vedere se ti puoi attaccare… al fatto che stai facendo delle citazioni… se uno delibere… poi c'è sempre a gestire il problema… diciamo… di proprietà… che se l'hai presi proprio dal sito loro… eh… non più lo stiamo dicendo… in modo… registrato… e ufficiale… che te lo dico… che si può fare… no… 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 va bene… io ho una domanda… ma… prima stavamo parlando del… dell'accessione no… dei diritti tra produttore e autore… ma nel caso del crowdfunding… quando è una comunità… quindi a produrre un'opera… che succede? eh… cerchiamo di rispondere in meno di mezz'ora… ehm… crowdfunding… dunque… anzitutto… crowdfunding vuol dire solo che raccolgo i soldi in giro… quindi un problema di diritti in realtà non ci dovrà avere… se c'è pure un problema di diritti su chi apporta cosa… lo chiamano crowdsourcing… cioè nel senso che pure… rielabori e prendi dei pezzi… in qualche modo… crei delle dinamiche dove si… elabora pure il contenuto… eh… devi vedere un po' dove… cioè la piattaforma… dove avviene… come avviene… eccetera eccetera… ehm… in un modo o nell'altro… sta cessione di diritti deve avvenire… quindi… ehm… può essere contrattualizzata con un click… con quello che… insomma che poi di volta in volta puoi avere… il fatto che chi partecipa accetta la regola… che poi può essere dettagliata… sfumata… articolata… ehm… ma comunque poi al succo… serve che accetti… che il produttore… cioè quello che raccoglie il tutto… possa fare… ehm… realizzare l'opera… ehm… non so se hai un dubbio più specifico… no no sì… è chiaro che… in caso dei finanziamenti è un finanziamento… il caso del… sì… finanziamento… è un… rielaborare… esattamente… esattamente… quindi non so di quale due parli… se parli del crowdfunding… il crowdfunding in realtà non intacca molto su quel discorso là… il crowdfunding vuol dire che io… racconto… dico… metto qui… io questo è il progetto su cui voglio raccogliere i fondi… quindi… lo leggi… se ti sta bene… mi dai tot… quel tot che mi dai… a livello di cessione di diritti… di solito non fa scattare nulla… solo in certi casi… ciò si prevede di solito una scaletta… e… diciamo… quello che si fa è che… per i livelli di contributi… da quello più basso… a delle cose insomma medie… non superi certe cifre… eccetera… non c'è una vera e propria corrispettività… non è che chi ti dà i soldi… tu li dà… perché gli stai vendendo qualcosa… tendenzialmente non è così… anche per problemi fiscali vari… ma si configura come una donazione… a fronte della quale tu… per… diciamo… spirito di riconoscenza… in realtà… gli dai le cose non proprio economiche… ma gli dai delle gratificazioni… tipo… ti metto nei titoli… ti metto sul sito… ti mando la maglietta… ti invito sul set… ti invito alla cena con l'attrice… fai delle cose di vario tipo… superata una certa soia… che a seconda delle piattaforme… fissano in modo diverso… a volte ti chiamano produttore associato… cioè se tu inizi a dare… mille euro… cinque mila euro… diventati dall'entità… a volte potrebbe scattare quello… però in realtà… pure là… non è che diventa un problema tanto… di gestione di diritti… perché non… non è che stanno un contributo intellettuale… stanno solo dei soldi… quindi l'unico problema… per chi li prende… fa il produttore… e che dice… questo mi sta dando i soldi… deve essere chiaro… che pure che mi dai soldi… il film lo faccio io… oppure… lo faccio io… però gli scrivo… che lui… in quanto mi ha dato… mille euro… diventa in percentuale… ridolare dell'1% del film… insomma… la struttura è più o meno così… però… di base… tutto il crowdfunding… la grande parte… cerca di… tagliar via questo… questo diventa… anche se tu lo… ritorni al caso più o meno normale… di quando qualcuno si associa… o ti finanzia un'opera… cioè… alla fine fai… diventa diventare una… una… un livello… no… in quel caso no… cioè diventa un livello tale di apporto… che non può più considerare la sua donazione… cioè… diventa un po' un finanziamento… lo devi regolare pure in un modo un po' diverso… no… di solito… la gran parte di quello… di cui parliamo… riguarda tante… somme più piccole… e… in quel caso lì… te la regoli in quel modo lì… cioè che le regole… le considerano come dei… rimane fuori tutta la cessione di diritto… sì… cessione di diritto… cioè lo metti in chiaro… insomma… lì è scritto da qualche parte… se ti prendi la briga di girare sui siti… che dici… guarda… comunque il titolare… il progetto è suo… tutto quello che tarica… è solo quello che lui descrive… ma non è che poi puoi accampare diritti sull'opera… quindi… un problema di gestione di diritti… non… non ce l'hai… allora… io ho realizzato un documentario… corto… di 6-7 minuti… che era su internet… prodotto… da una casa di produzione… è stato… preso… rimontato… tre minuti e mezzo… nell'ambito di una trasmissione… della RAI… l'hanno citato? non mi hanno citato… l'hanno… montato… a modo loro… e… diglia di soldi… eh… sicuramente… quanti… quanti… nel senso… visto i tempi… cioè… il margine… nel senso che c'è un problema di diritti… ma anche volendo di… i diritti e i diritti morali… non ti hanno manco citato… cioè… loro potevano facilmente… ma non è che ti hanno citato in fondo… non l'hai visto? no… zero… eh… ma è capitato pure a me… un paio di volte… e… niente… se ti citavano a video… insomma… potevano… più o meno dire che quello era un diritto di citazione… perché ti hanno fatto vedere… che eri te… insomma… ti dà anche la visibilità… eccetera… ehm… e in quel caso… a volte… funziona… che tu hai citi un pezzo… poi monti un'altra cosa… poi c'è un altro pezzetto… mh… e… di solito… cioè… quella domanda dei tre minuti che pendeva… e adesso… la… 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 la assolvo… eh… di solito tendono a stare nei tre minuti… in televisione… questa è un po' proprio una prassi di loro… che in realtà viene da un'altra… viene da un'altra questione… cioè… non è che tre minuti… siano… la regola… aurea… per cui se fai entro tre minuti… puoi fare quello che ti pare… perché se fai tre minuti… una canzone di uno famoso… che dura due minuti… e cinquantanove… gliel'hai presa tutta… ti fa nero… quindi non è quello… tre minuti… per i canali… nasce… perché sotto tre minuti… vanno in esenzione con CIA… cioè loro sotto tre minuti… se tu dentro c'hai musiche… non le devo neanche denunciare… per dire… no? eh… se è un film sotto tre minuti… non… 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 non è una messa in onda… che paga i compensi… quindi sotto tre minuti… la soglia critica per loro… non se ne curano proprio… tutti i programmi redazionali… diventerebbero matti… se dovessero cercare tutto… pure sui due minuti di citazione… uno… due… tre… quindi… di qui poi… tendono a non superare mai quei tre minuti… in realtà a volte li superano pure… che mi è capitato… hanno preso il documentario di una… simpaticamente… il documentario pure bello… che era andato… tagliato come gli pareva… l'hanno preso un quarto d'ora… attribuendola a un altro… mandandola in onda in una trasmissione… che è la trasmissione a cura di uno… lei non compariva più… cioè… follia assoluta… poi magari l'aveva fatto… neanche lo sapeva… che magari dalle dendeche non lo sapeva… non so… problemi… e… tu… eh… in un caso così hanno sbagliato… loro hanno fatto una trasmissione sullo stesso argomento… in cui pendevano pezzi del mio documentario… con interviste… lanciandoli come servizi loro… non esiste proprio… non esiste proprio… se le interviste ci hanno un po' di polpa… c'è i diritti d'autore pure sulle interviste… quindi… proprio… stanno fuori… non si può fare… stai per diventare… ho visto anche quando… ricco no… perché… cioè… comunque sì… a parti lancia e resta contro Rai… pure lì… cioè ce ne vuole… non è che è facile che lì… mai usato… loro ti mandano l'assegno… cioè non è proprio… però… a rigore c'è ragione… gli potresti chiedere da anni… eccetera eccetera… non è assolutamente facile farsi dare… perché Rai è bombardata di… divertenze… eh… e quindi… quasi impossibile… ti paga un euro se non la porti in Cassazione… proprio… muori prima di… di… di tedio… cioè Austin… tanti tanti soldi… però… e non si accordano… prima… non… cioè… di fatto no… perché loro sanno… che se te tanto non li porti in Cassazione… la cosa sono due… o… fanno una cosa talmente… deplorevole… che rischiano la denuncia penale… ah… c'è qualche speranza… eh… se no… no… però… non so… di nuovo… vi prego… diciamo che… io farei la stessa cosa… se dovessi essere il loro ufficio legale… comunque insomma… se c'è un rischio molto molto alto… può essere pure… ma… capito… tre minuti… quanta roba mettono in onda… di quanta gente… e quanta dinarie… quindi ovviamente fanno… ma qui di penale non c'è nulla… per esempio… ma potenzialmente si… potresti pure vedere… di… di configurare… cioè… boh… andrebbe un attimo… andrebbe un attimo… verificata… però un po' esaggioso… cioè… insomma… ma non dovrebbe essere la produzione… in questo lato… ah sì… la produzione mi ha scaricato… perché ha rapporti con Rai Cinema… è bene… è così… mi ha detto che mi cede i diritti… erano al 50… me li cede per farmi la causa… da me… per conto tuo… ma… spesso è così… cioè… spesso la… cioè… il gioco non vale la candela… perché tu… fra quanto ti costa… quanto ti dura… e che comunque sia… certo… non ti va a fare degli amici… facendo caso alla gente… per una roba del genere… la cosa brutta è il fatto di non essere citati… cioè… veramente… che altro che devo dire… no… no… risposto… altre… no… finish… c'era un'ultimissima cosa… questa è più breve però… per tutelare… la propria opera… nel caso per esempio di… penso sia uguale… di un format… per la tv… grazie… cioè… come si fa… si va dalla CIA… come faccio ad attestare che… i format… no… è bella domanda… dunque… i format sono… sono… un po' una gradura strana… perché… io vi ho detto… oggi… che le idee non vengono tutelate… ma… solamente le… forme di espressione delle idee… allora… immagina… tu c'hai un'idea… cioè… io ti dico… prendo… otto tipi… e li metto in una casa… li riprendo di nascosto… con le delle gambe… cioè… sanno che sono ripresi… ma ovunque… cioè… in teoria… questo è il grande fratello… no… in pratica… è solo l'idea del grande fratello… per cui se io… sempre il caso di prima… scrivevo sta cosa… tutte le leggevi… e ti andavi a produrre… il grande fratello… io… non potevo fare nulla… no… perché era un'idea… ma… lo può fare chiunque… infatti poi hanno fatto… vari altri format… sulla falsariga… non è che hanno pagato… i diritti a Endemol… perché hanno messo i tipi… sull'isola… o l'hanno messi da nostra parte… rinchiusi a fare… le cose loro… ehm… quindi… anche nel caso del format… tu… prendi quest'idea… e ti devi mettere lì a scrivere… quindi… inizia a dire… e i tipi quanti sono… sono otto… perché sono otto… quattro uomini e quattro donne… perché… perché voglio fare queste dinamiche… come è la… la scaletta di ogni puntata tipo… è questa… e poi… come faccio la casa… deve fatta in questo modo… e poi… le linee grafiche… il logo sarà questo… il nome sarà questo… il nome lo deposito… lo registro… ecc… ecc… lo imbottisci… e lo arricchisci… e lo fai diventare una forma… di espressione… quell'idea… a questo punto… c'è una cosa… che se tu la prendi… e vai… ACI… e paghi… un ob… non so… 70… 80 euro… lo depositi… al registro format… come inedito… lo metti lì… e ti fa fede… che quello è tuo… dopo… che succede… che tu lì dentro… al registro format… la CI… ci dovresti essere messo… pure una fetta di prosciutto… per quanto li riguarda… perché loro… quando firmi… ti dicono… tu… il grado di tutela… originalità… non è che lo possiamo decidere… noi che prendiamo… il plico in busta chiusa… noi ti diciamo… solamente che… se poi quella roba è originale… sarai garantito… e noi faremmo fede… perché è un ufficio pubblico… che quello l'hai depositato tu… e sei tu il titolare… quindi… per tutelare il format… devi veramente… creare un format… e poi… ti crei una data certa… del fatto che è tuo… mediante un deposito… in realtà… è manco indispensabile un deposito… il deposito è comodo… perché… riesci a tenerlo anonimo… a dargli l'ufficialità… se vuoi… no… altrimenti dovresti… prendere… non so se… ecco… se lo cedi a qualcuno… in quella data… pure quella è una prova… che era tua… a quella data… si… questa cosa raccomandata… è un mezzo un po' artigianale… che insomma… andava una volta… però è… diciamo che è un po'… non è proprio inattaccabile… cioè nel senso… può pure andare… è meglio che niente… in realtà più che la raccomandata… la raccomandata… in realtà… non è… diciamo… non è inattaccabile… perché… anche… sembra un po'… cioè… in realtà è un cavillo… però se tu ti trovassi a litigare… io da avvocato… ti dico… raccomandata… può essere pure vuota… cioè una busta raccomandata… chiusa… te la mandi da solo… te la mandi da solo… e la lasci chiusa… e la lasci chiusa… però sarebbe un po' manomettibile… in realtà quello dovresti fare… è il piego… raccomandato… ti dà una prova certa… perché il timbro gustato… ti fa una… una prova certa… che… sinceramente… ti devo dire la verità… sta cosa… è usata… poi in realtà manco troppo… cioè… è più un tormentone… che si è sempre detto… gente si spedisce la roba… però io… cause dove poi… hanno deciso… l'anteriorità… in base a queste vieghi… raccomandate… non ho troppe… forse non ho mai vista una… insomma… è una cosa che si dice… ma non… non credo sia mai stata… addestata al 100%… se vai da un giudice… e si… a me… a me… la PEC pure… si… la PEC è una bella prova di… di ricezione ormai… si… cioè se io invio una cosa via PEC… ad una produzione per esempio… si… si… senz'altro prova che a quella data tu l'hai fatta… che esisteva quella cosa… sai… il discorso lì della CIA in realtà è che tu nel momento in cui glielo depositi… fai una dichiarazione firmando… per cui fino a quella era di falso tu dichiari di essere il titolare… cioè se ci vai a litigare con qualcuno… comunque… diciamo in un tribunale fai una certa scena… c'è una sua certa ufficialità… cioè tu per averlo… te lo fai produrre… da CIA… cioè… se è una roba tu tutti ci metti un po' a lavorare… per 70€ così… forse… non sarebbe proprio un'idea peregrina… investirli… se invece fai tanti progetti… e poi comunque intanto… vai pure in posto… te lo fai timbrare… e può… comunque insomma… è un principio di prova scritta… va bene… però… coi format… la verità vera… coi format… che la tutela migliore… è che non li dici… finché non li fai… è proprio difficile tutelarli… è molto difficile… infatti… girare una puntata pilota… non potrebbe servire… bravissimo… quello già ti aiuta di più… cioè quello ti aiuta di più… perché comunque… a quel punto inizia a tutelare… una cosa che ha una forma più concreta… lo vedi… non solo… ma la puntata pilota… ci spende i soldi… quindi… anche a prescindere da… dai diritti d'autore… copyright… originalità… puoi attaccarti anche a una tutela di tipo concorrenziale… cioè se tu sei una società di produzione… non ne parliamo un canale… che investe… per fare una cosa… se tu riesci a dimostrare… che… non solo che l'hai fatta prima… che chi te l'ha… che l'ha rifatta… l'ha presa da te… cioè te l'ha guardato… comunque riesci a dire… che lui ha sfruttato parassitariamente i tuoi investimenti… perché vedendolo realizzato… tasco, piazzato… per la verità… infatti poi tra i canali… è molto per paura di questo… sui format che vanno in onda… che iniziano a fare ascolti… ci investono sopra… eccetera… che di fatto un po' si rispettano… cioè… su… le cose… so… programma di cucina… metto uno e cucina… e lui che paghi diritti a chiunque… perché è un'idea… metto uno e lui che cucina… però ecco… su… per esempio… non so… il grande… il grande fratello… il grande fratello… torna di… se tu… a parte che lì è diventato un po' il marchio che contava… però… diciamo… le licenze loro se le pagano… cioè… pagano un… un riscatto per fare magari un adattamento… spesso… con i programmi stranieri… c'è… un programma americano… lo puoi fare in Italia… alla fine… le licenze di adattamento… non costano tanto… quindi… comunque tu dici… beh… devo spendere una cosa… che mi pesa… il tutto 8% del budget… per iniziare a svilupparlo… piuttosto che prendermi il rischio… che quando c'è un vestito tutto… questo… mi piantano una grana… e pago pure di più… ti levi il pensiero… e lo regolarizzi… perché comunque… ho due aziende… di cui una si mette a fare una cosa… avendo guardato l'altro… però… però… quanto ti tutela… perché… prima dicevi… magari… prendi un format… e alla fine… quasi lo stesso… l'idea è la stessa… la cambi un po'… se tu scrivi qualcosa… e loro cambiano due virgole… si possono rifare… sto fatto che è un'altra cosa… no… cioè… comunque ti tutela… scusa… troppe cose… se tu scrivi… o anche magari giri… o comunque cerchi di tutelarti… riguarda un'idea… e loro magari… la… la… riapplicano… cambiando qualche sfumatura… cioè… tu ti puoi rifare uguale… o comunque quella diventa un'altra cosa… devi vedere il caso… devi vedere quanti elementi hai copiato… quanto era originale quello che hai preso prima… e quanto… hanno preso del… quanto è sostanziale… la parte che ti hanno preso… quello che tu te lì… è sempre la forma… cioè… come l'hai fatto… se veramente hai scopiazzato molto il come… ehm… ripeto… non so… pensa alla ruota della fortuna… nella sua… semplicità… mettere una ruota fatta a spicchi colorata… in mezzo a uno studio… il primo che l'ha fatto… è il primo che l'ha fatto… cioè… è abbastanza caratterizzante come forma… ehm… insomma… ciao… va bene… d'accordo… grazie… 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 grazie…